mio padre sta versando caffè nelle tazzine degli ospiti sono un bambino e non bevo caffè ma oggi questa scena mi incuriosisce perché mio padre è ferito sembra averlo scordato adesso mentre ride chiacchierando col carillon dei cucchiaini che girano tintinnanti nel sole pomeridiano eppure il suo mignolo è avvolto in una smisurata garza per proteggere l'unghia rimasta schiacciata nello sportello di un'auto qualche giorno fa io guardo affascinato l'enorme dito bianco che oscilla sulla tavola finché di colpo lo vedo immergersi nel liquido fumante senza che lui distratto se ne accorga sto lì ipnotizzato in mezzo al tepore postplandiale tra l'odore di cibo e di tabacco senza dire nulla senza avvertirlo del nero che intanto va montando lungo la fasciatura risalendo verso la sorgente del dolore lentamente e inesorabilmente più su più su più su e lui niente adesso però l'intera benda è diventata oscura intrisa di un bitume incandescente così la mia infanzia si arresta attraversata da un urlo improvviso il tonfo del bricco le schegge di ceramica gli schizzi sulla tovaglia ecco cos'è per me la voce del sangue la fitta di chi chiama dall'interno e chiama e chiama finché la gente intorno si decide ad ascoltarla mentre lento si spande l'aroma del caffè mi era sempre piaciuto il caffè per questo alla fine non mi sono sorpreso più di tanto quando ho capito che lo sarebbe diventato mi riferisco alla tomba di famiglia ne ricordavo appena traccia svanita di qualche lontano funerale alla sua morte tuttavia fui costretto a prendere confidenza con quel luogo e con i suoi protocolli burocrazia dei cimiteri trascurato da oltre un decennio il sepolcro era accaduto in abbandono si sa è un appuntamento con un addetto per indagare meglio la situazione in breve seppi che tra la colliquazione di alcune salme e l'umidità del posto il vano risultava mezzo allagato in uno stato di completo disfacimento tolto il coperchio marmoreo mi curvo perplesso sul vuoto e intravedo le casse accattastate in mezzo alla melma come in un acquitrino mentre dal basso sale un'aria fredda da vecchio scantinato ora occorreva fare pulizia mi hanno sempre colpito i racconti in cui un gruppo di persone viene esposto alla necessità del sorteggio la paglia è più corta in un modo o nell'altro l'estrazione del prescelto possiede una irresistibile forza d'attrazione ecco ho sempre avuto la vertigine della conta e anche quella volta andò proprio così nel gorgo della chiamata finì come al solito io fra tanti parenti toccò a me il compito di ripulire l'avello non le stalle di augia bensì l'oculo del verano insomma come nei giochi di carte da bambino mi capitò in sorte l'uomo nero anzi gli uomini neri visto che di cadaveri lì dentro ce n'erano diversi ma che dovevo fare con quel pantano di poveri dormienti le pulizie di pasqua ebbero inizio allora con l'aiuto di un esperto scelto per presedere ai lavori perché si trattò di svuotare spalare prosciugare ricostruire e aereare quel mondo sotterraneo popolato di salme fu così che affrontai la questione delle rese la resa è la differenza di quanto dopo morto ognuno paga con la propria vita l'avanzo degli avanzi l'autoreliquia ogni resa equivale a un corpo o piuttosto a ciò che ne rimane una ventina d'anni più tardi la tomba insomma è una macchinetta distributrice che dà indietro il resto si è pure dopo un'attesa alquanto prolungata storia curiosa questa dei residui conservati a oltranza conobbi allora il motivo per cui l'Italia dei sepolcri foscoliani si differenzia da tanti altri paesi senza parlare della cremazione del cosiddetto piano oceano lanciato da Shanghai per abolire i cimiteri nel giro di vent'anni disperdendo in mare le ceneri dei suoi abitanti ciò che contraddistingue le nostre usanze funebri è il modo in cui confezioniamo il cadavere in molte nazioni la spoglia viene affidata alla terra in una semplice cassa di legno per poi filtrare via sciolta nell'humus da noi al contrario i morti sono accolti in un'architettura che impedisce loro di svanire ospitati dentro caseggiati di pietra separati dal suolo sono riposti sì entro bare di legno ma bare foderate di zinco così facendo viene impedita loro ogni via di fuga e per finire dove? poi in una specie di residence coi pavimenti di marmo diventano perciò mucchi, pozzanghere ma immobili bloccati senza poter evadere da quell'invaso metallico siamo una società conservatrice che non vuole smarrire e smaltire nemmeno i propri cadaveri tombe come cibi in lattina tombe come cassette di sicurezza e che nulla si perda strada facendo questo mi disse il tecnico per spiegarmi in cosa consistessero le rese la resa era appunto il travaso di questi resti dopo un certo intervallo dalla cassa vera e propria a una piccola scatola di latta numerata intanto fra me e me vedevo una cantina riempita di barrique d'altronde come non pensare all'invecchiamento dei vini alle botti, alle annate legno, pannino, feccia gli equivalenti della strana pasta che dovevo domare io all'oscuro di tutto fino a ieri io perfetto incompetente della morte stavo prendendo lezioni di scuola guida per un aldilà che appariva molto lontano dalle mie aspettative mio padre mi obbligava ad esperire il grande regno della stagnazione e del parcheggio corpi ma le colonne altissime di fumo le eroiche ceneri disperse al vento e alle onde perché no? perché no? così sono alle prese con le rese ce ne erano quattro o cinque dai miei cari da sopportare a trasloco l'operazione richiedeva la presenza di almeno un parente stretto allora mostrando l'asso di bastoni che avevo estratto dal mazzo mi feci avanti e fissai l'appuntamento c'è folla sotto terra questa mattina sei o sette operatori salgono e scendono tra scale e funi più tardi passerà anche un'ispettrice bionda e gentile palanche e corde picconi e cemento in un'attività che durerà frenetica tre ore almeno intorno alcuni visitatori perplessi nel frastuono del cantiere cercano di pregare i loro morti limitrofi ma ecco che viene fuori la prima bara il legno zuppo e nero testa di moro si sbriciola biscotto troppo a lungo zuppato viene via e disgregandosi rivela la sua camicia siamo allo zinco anche lui è messo male così ossidato e pallido così corroso e opaco da somigliare a un'ostia eppure ancora abbastanza resistente da contenere qualcosa qualcosa se tutto dovesse andare per il meglio io ad esempio sarò un mucchetto scuro scintillante di protesi impianti viti perni placche ponti mescolati ai materiali organici veri e propri anche nell'oltretomba farò scattare i metal detector comunque sia sarà stato pudore ribrezzo una semplice forma di ossequio fatto sta che mi sono girato ho voltato le spalle ai familiari non volevo vedere ascoltavo soltanto mentre la squadra intorno continuava a elencare i miseri segnacoli di un'agitazione impossibile come un indovinello una caccia al dettaglio con tutto mescolato abiti e corpi femore facile nodo di una crevatta elementare il teschio certo ma quell'apparizione cos'è quel ragno quella ragnatela è stato necessario il capomastro per sciogliere l'enigma la crocchia dei capelli di mia nonna la cui fisionomia era peraltro identica a quella di christopher wolken l'attore americano che si suicida nel film il cacciatore io mi fidavo guardavo dall'altra parte mentre lenta e solenne transitava la serie dei reperti ho visto soltanto qualcosa di brunito forme indistinte nient'altro neanche un profilo vagamente noto passavano dietro di me e io li intravedevo ciarpame cumuli un lavorato umano poi al termine della sfilata ho capito quando il camion con le bare dissestate è andato via lasciando a terra una pila di cassette luccicanti ho capito cos'erano le rese le rese sono i morti torrefatti i morti torrefatti e neri trasformati in caffè saremo tutti cotti nello zinco per diventare tutti polvere di caffè d'altronde alla medesima conclusione era arrivato anche un grande poeta nel suo testamento del 1949 il tolemaico Gottfried Ben espressa infatti questa precisa disposizione disperdere al vento di settembre la metà delle mie ceneri e conservarne l'altra in una scatola vuota di nescaffè aggiungo che in alternativa l'impresa svizzera al gordanza adottando un procedimento ad origine russa che prevede una pressurizzazione di due settimane trasforma le ceneri dagli estinti in diamanti di circa un carato tra i clienti migliori i messicani alleggo infine la leggenda metropolitana secondo cui il cantante Kate Richards avrebbe sniffato le ceneri del padre mescolandole a un po' di cocaina quanto al caffè però Jean Cocteau non sarebbe stato d'accordo a suo parere l'immagine della morte andava piuttosto associata a quella del tabacco da qui una toccante visione le sigarette come regine d'Egitto piccole mummie dalle cinture d'oro ho conosciuto bene quella sensazione di vuota levità buia ed aerea la provavo da piccolo sollevando mia nonna stava da noi ogni tanto Christopher Walken veniva abbandonata in una stanza dove sostava come un sovrammobile era scesa tanti anni prima dai monti della ciociaria e recava con sé atrofizzato un dialetto tenebroso e arcaico come le sue vesti l'atteggiamento che aveva assunto nei miei confronti andava dal silenzio a una sorda ostilità non seppe mai il mio nome si ostinava a chiamarmi con quello di mio padre ossia suo figlio era secca scura storta e leggera come un sigarillo un toscanello ma con una pelle candida traslucida e infine lunghissimi capelli bianchi annodati in una crocchia e quando li scioglieva sembrava un ragno al centro di un'infinita tela luccicante d'argento finché un giorno mi accorsi con orrore che aveva il vuoto fra i globi oculari e le orbite solo in seguito notai che quello spazio dischiuso nella parte superiore dell'occhio a modi sottotetto appare anche nel davide di michelangelo tale scoperta però avvenne assai più tardi lì per lì la sua improvvisa teschificazione mi impedì di guardarla per mesi occhi e poi nulla da passarci dentro un dito là dove tutti noi siamo o perlomeno fumo compatti colmi di carne a mascherare ogni fessura la nonna sigarillo aveva un conto in sospeso con mio padre proprio a causa del tabacco infatti da ragazzo lui andava in giro con gli amici rollando salvia e cicoria in carta di giornali la madre lo vedeva consumarsi sempre più magro magrelli finché scoperta l'origine del male gli impose di giurarle che lei viva non avrebbe fumato mai più per mezzo secolo il figlio le obbedì ma era soltanto questione di tempo e poco dopo la sua morte il patto fu prontamente revocato mio padre aveva quasi 70 anni quando durante un pranzo domenicale accettò di tirare una boccata non gli piacque ma la settimana successiva le boccate erano già diventate quattro e cominciò una silenziosa escalation con cinque sigarette intere e tutti i giorni io me ne resi conto iniziai a controllarlo lo interrogavo ma lui sempre serafico mi rassicurava che erano rigorosamente sei il mese dopo la stessa aria inflessibile accompagnava la risposta ora erano solo rigorosamente otto così arrivamo man mano a dodici e sempre assunte col massimo rigore inutile cercare di fermarlo quel che non feci io pote però il dottore riportandolo al punto di partenza sembrava fatta eppure la sua tenacia riuscì a trovare un'altra scappatoia costretto a un'unica miserabile reazione tanto cercò e frugò che riuscì a scovare una marca tedesca sconosciuta in grado di produrre sigarette lunghissime me lo rivedo ancora in sala da pranzo impugnare una specie di bacchetta una prolunga un'antenna una folle sagaglia di 20 30 centimetri fumava 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 perdutamente dove l'avrà trovata mi chiedevo ammirato durava un quarto d'ora e lui inebriato taceva fra le spirali dolce e brucaliffo sorrudendo felicemente rigorosamente felice come fu poche volte in vita sua improvvisi come il fumo comparvero i viaggi in tutta la sua vita tolta la parentesi bellica in slovenia e un fugace viaggio di nozze in grecia quest'uomo interamente dedito al lavoro non aveva mai lasciato l'italia 70 anni di fila senza praticamente uscire dalla sua città poi da un momento all'altro samarkand da cappadocia gerusalemme angkor e questo negli anni in cui il turismo di massa non si era ancora pienamente affermato come gli saranno apparsi gli altopiani dell'asia centrale e le pianure cambogiane esagero esagero e falsifico era già stato almeno in inghilterra nell'europa dell'est in marocco eppure mi viene spontaneo polarizzare gli elementi della sua vita accentuarne i tratti e spingerlo verso la caricatura così facendo infatti mi sembra di assecondare il suo carattere mettendone a nudo le linee portanti più vero del vero insomma dal niente all'oriente allora prendiamola per buona tutto comunque meglio dei viaggi in auto con moglie e figli per l'italia chissà perché l'unica impressione che me ne resta tristi ottobri ad alessio vuote serate ad assisi è quella inesplicabile di una fuga in egitto della sacra famiglia ecco la sciagurata formazione i genitori avanti i due figli sui sedili posteriori a litigare per l'intera durata del viaggio in un geometrico tutti contro tutti schema infallibile e brevettato perfetto quadrilatero della schizofrenia formula magica per la distruzione del sé non per nulla ho sempre impedito alla mia famiglia di viaggiare in una simile disposizione e in genere di viaggiare in macchina vera e propria camera iperbarica per la coltivazione del rancore quanto ad Alassio resta per me il distillato della noia non sapevamo letteralmente cosa fare perché non sapevamo stare insieme non sapevamo cosa fare per essere una famiglia eravamo soltanto quattro figli quattro pellegrini senza mecca il nostro amore mancava di caglio non avevamo l'enzima necessario per dare forma ai nostri sentimenti a tromutare il siero dell'affetto nella pasta nel peso nel senso della piena maturità del formaggio lontani dal miracolo caseario ci guardavamo come stranei e piombavamo nella lassiopatia Assisi invece fu teatro di un'avventura che mi ha marchiato per sempre arrivati in paese a tarda sera cercammo a lungo di riparare ma tutti gli alloggi risultavano occupati da qui una sensazione di indicibile nausea che andava aumentando con la progressiva scoperta di un'esclusione senza appello solo alla fine trovammo un qualche buco ma mi resta per sempre una domanda lancinante dove andremo a dormire quelle vacanze in giro per l'Italia un senso di mestizia e lontananza estraneità espulsione smarrimento pensioni l'anticamera del nulla e la cena al piano terra verso le sette e mezzo in quei primi viaggetti dell'infanzia deve essere avvenuta in me una fissazione più profonda di quanto possa immaginare e che si radicò definitivamente quando cominciai a spostarmi da solo fu così che nel corso degli anni scoprì l'abisso e il fascino delle piccole stanze d'albergo grandi macchine di solitudine piccole macchine di grande solitudine con le tre stimmate del nuovo desdiciado attesa moquette avvolgibili quante volte ho mangiato da solo insieme ossia da soli tutti e due ad un qualche commesso viaggiatore e adesso orrore orrore mangiare da solo in un ristorante mi piace un libro accanto al piatto meglio un giornale un paio di birrette e ormai è la solitudine farmi compagnia perché siamo in due è evidente io e il mio inseparabile sentimento di abbandono che non è certo il peggiore dei commensali abbiamo fatto pace come vecchi parenti litigiosi sia chiaro le offese restano indelebili ma ormai vengono messe tra parentesi nel segno di un'inestimabile familiarità non so da dove venga quel senso di pienezza che nasce rispondendo a un'aggressione deve avere a che fare con le endorfine una reazione chimica elementare tribale testicolare e l'improvviso vuoto lasciato dal flusso adrenalinico si leva una luce radiante la piccola atomica degli umiliati e offesi ulisse con i proci osando cam andreic erano pallide prefigurazioni di quanto poteva mio padre non so come sia arrivato sano e salvo fino a 83 anni certo è che non lo vidi mai tollerare un affronto era il suo lato splendido e insensato fantastico brutale e leggendario quel giorno il cerchione di una ruota si era allentato e toccava terra mentre andavamo cigolando in auto ma l'omone che ci gridava dietro e ridendoci ammutò lì di botto davanti alla sua replica repentina e feroce l'animale l'animale alfa aveva ristabilito le distanze gli aveva pisciato addosso per fargli capire a chi apparteneva il comando della muta un pasticciere incarta dei cornetti alla panna con le mani insozzate dai soldi dall'erciume bisognava capirlo è appena cominciato il dopoguerra in un'italia povera e assoluta lui paga il conto e poi come niente fosse inizia a scaraventarli via uno dopo l'altro contro la parete del negozio schizzi urla esplosione dei lieviti proiettili visita alla basilica di san pietro due immensi portoni uno per entrare uno per uscire tutti in fila da bravi tranne un gigantesco tedesco pelato allora i pelati erano pochi e ricordavano sempre il gran pelato di piazzale loreto impassibile sprezzante fende la folla contro mano e pretende di uscire dal portone d'entrata nessuno si ribella tranne ovviamente lui vedo mio padre sporgersi dalla calca allungarsi a fatica alzarsi sulle punte e colpire con metodo con una sorta di pia o perogità il cranio luccicante dell'insubordinato il quale devo ammettere non reagì in alcun modo e finì per trovare la via d'uscita continuando a far finta di niente sotto la gragnuola di pugni che lo colpivano sulla cotenna un folle mi dicevano gli amici stupefatti cui raccontavo queste vicende domestiche un folle certo è notte siamo in vacanza in mezzo ai monti e adesso spara con il mio fucile giocattolo provando il cannocchiale e mira alla luna un gruppo di venti ragazzi in mezzo ai monti prova a prenderlo in giro dico prova perché alla quarta parola lui gli è già addosso coprendoli di minacce non li ha nemmeno guardati non ne aveva bisogno poiché la sua decisione prescindeva comunque dalla pericolosità dell'avversario era lo zenith della mia ammirazione infantile nessuno scarto fra desiderio e azione ma un'intesa felice e animale un impulso irresponsabile che lo portava ad un'assoluta insofferenza per qualsiasi genere di oltraggio allora lo attribuivo alla sua esperienza di guerra ma non c'entrava niente era il carattere una volta ho provato anch'io e devo ammettere che in effetti funziona insultato nel traffico da un camionista spensi la moto e lentamente e platealmente mi arrampicai fino al suo finestrino che c'è domando niente è naturale è come con i liquidi e l'idraulica questione di meccanica a una pressione segue un cedimento però bravo e non l'ho più rifatto troppo rischioso così sto a metà strada mi indigno ma ragiono dovrei rinunciare a una delle due cose eppure non ci riesco allora tentenno soppeso subisco lui invece puro slancio un posseduto un padre posseduto una specie di medium incontrollabile pronto a cadere preda del dio furore pressoché un epilettico al quale nel cuore della trans si dischiudeva l'illuminazione finale della bestemmia conosco molto bene quell'ebbrezza maturata nel corso delle ore passate in chiesa facendo oscillare il turibolo dell'incenso servendo messa o inginocchiandomi nei confessionali odorosi di umido istantio me li ricordo bene sembravano battelli da pesca tutti di legno oscuro con la cabina e l'oblò da dove si affacciava il sacerdote c'era pure la vela che veniva tirata giù per nascondere il capitano proprio una barca a meno di non pensare ai vecchi vespasiani una barca e una canna da pesca infatti per sancire l'assoluzione il penitente veniva colpito lievemente con un bastone ebbene posso dire di appartenere all'ultima generazione passata attraverso una simile sacra rappresaglia per questo credo che solo chi abbia colmato tanto a lungo i granai della devozione possa conoscere il tremito l'orgasmo di tale accesso al nome dicono che nelle pupille delle icone si compia il transito tra il fedele e dio io penso invece che l'unico tipo di contatto possibile passi attraverso le parole blasfeme è un brivido preistorico e preconoscitivo di natura sessuale plenaria erettiliana ultimo resto di un'esperienza magico tattile del creato la bestemmia è una forma di preghiera anzi sta alla preghiera come la copula al corteggiamento così fu un'immersione nel regno delle madri ciò che mi venne trasmesso da mio padre in un libro intorno alle guerre di religione oliver christine si è soffermato su un suggestivo esempio iconografico relativo alla condanna della chiesa verso spergiuri e bestemmiatori specie coloro che attribuiscono a dio qualcosa che egli non possiede un corpo mortale degli organi poco lusinghieri o delle deiezioni per condannare casi del genere l'immagine diventa lo strumento più efficace mostrando come le lance che ravvivano le piaghe di cristo in croce escano direttamente dalla bocca dei blasfemi materializzando quei termini irripetibili si tenga presente che nella francia del seicento una severa legislazione contro i bestemmiatori sanciva pene che andavano dalla multa fino al taglio del labbro superiore o della lingua ma questa tara questa malattia in mio padre raggiava assieme al gesto luminosa divampando nella sua foga da invasato e senza mai acquistare quelle risonanze sotterranee col carico di colpa che più tardi io ne avrei attribuito insomma le mie bestemmie rappresentano il versante lunare della sua fulgida violazione prometeica e chi non si sarebbe sentito inadeguato rispetto alla somma gloria di una simile ira schermito da un muratore durante una passeggiata scala i ponteggi gli si scaglia addosso e lo percuote a sangue mentre lo sciagurato tenta in vano di difendersi addentandogli una mano segue cicatrice diventato assistente universitario mentre il professore lo rimprovera per un ritardo spezza in due la matita la getta via e se ne va chiudendo la sua breve carriera accademica dopo l'otto settembre gli rubano gli stivali e lui attraversa mezza Roma in divisa incurante dei rastrellamenti nazisti per intimorire il macellaio che gliele aveva sottratti un sonnambulo sul cornicione oppure un eroe cinematografico sventato sì ma anche fraterno amico dello sceneggiatore come quando finì per litigare con la piccola malavita del quartiere testaccio dove abitava da giovane allora lo aiutò il suo istruttore di pugilato che volle accompagnarlo all'ok corral per fortuna il giorno stabilito non si presentò nessuno ma lui era lì ci mancherebbe altro lo raccontava ridendo per confessare quanto aveva tremato insieme al fratello futuro radiologo e all'ex boxer della palestra audace invincibili non c'è che dire tutto finì in un'enorme colazione scaramantica proprio come accadde in occasione della nostra unica uscita venatoria eravamo in campagna ci accompagnava un poveretto cacciatore ci alzammo alle 4 di mattina cucinammo un'immensa frittata pioveva a dirotto il cacciatore andò noi restammo a mangiare non ho sparato un colpo in vita mia mio padre invece sì e anche parecchi in una guerra di cui pure mi raccontò troppo poco trattengo appena tre scene aveva 22 anni e serviva come ufficiale topografo nell'ottavo reggimento artiglieria a cavallo dei granatieri di sardegna divisione cacciatore delle alpi dopo alcuni mesi trascorsi tra la croazia e la serbia venne trasferito a roma fu così che durante un'uscita capitò dalle parti di capanelle dei due cavalli che gli erano stati assegnati arcole e bracciano quel giorno montava il secondo un sauro di quattro anni balzano da tre lo accompagnavano l'attendente per i servizi civili e un palafreniere siamo ancora nell'alto medioevo il loro avrebbe dovuto essere un semplice sopralluogo tuttavia giunti davanti all'ipodromo il richiamo della corsa fu troppo forte e i tre si lanciarono a briglia sciolta sullo splendido anello riuscirono a compiere un intero giro ma a quel punto sbuca fuori un inserviente che furibondo gli ingiunse di abbandonare immediatamente la pista ormai però il drappello non sentiva ragioni mio padre naturalmente lo aggredì comunicandogli che aveva ricevuto l'ordine di eseguire un'accurata ricognizione e a tale scopo necessitava delle informazioni più dettagliate per una documentazione relativa alla descrizione completa e improrogabile dei servizi di accampamento davanti a tanta severa autorevolezza il custode si confuse e si allontanò scusandosi il che significò per quei ragazzi passare la mattinata galoppando indisturbati e soli nel cuore della guerra lungo quell'infinita aureola verde ma se torniamo indietro nei balcani troviamo una fucilazione quel giorno alla mensa ufficiali avevano cucinato rane fritte il pasto fu interrotto bruscamente e tutti i convitati dovettero uscire dall'edificio per assistere all'esecuzione qui le informazioni si confondono pare che il condannato un italiano del meridione recalcitrasse e piangesse e orinasse ripetendo in dialetto angora angora su un tono implorante e interrogativo da allora mio padre sosteneva di non aver più potuto mangiare rane a l'ubiana in compenso doveva aver avuto un'avventura sentimentale questione di corteggiamenti pedinamenti il piede che blocca un portone qualche bacio furtivo chissà per tutta la sua vita comunque mai un cenno a storie amorose un pudore completo eppure avrà di certo frequentato i bordelli come chiunque altro della sua generazione come erano mi chiedo ancora oggi silenzio altra piccola traccia durante un convegno ad amalfi conobbe una star dell'epoca luisa rivelli pseudonimo di rossella lanfranchi l'attrice girò ben cinquanta film da persiane chiuse a torna piccina mia fino a madri pericolose si ritirò dal cinema nel 1974 ma nel 1968 arrivò addirittura a presentare il festival di Sanremo con Pippo Baudo mio padre tuttavia ne parlava con troppa ammirazione e senza alcun sottinteso perché fosse davvero successo qualcosa mentre scrivo queste righe vedo davanti a me lo scatolone sigillato in cui ho riposto le agende dei suoi ultimi vent'anni le ho trovate qualche settimana fa durante un trasloco ne ho sfogliato un paio e poi le ho messe via per mandarle in soffitta possibile che non sia curioso di leggerle sono sbalordito dalla mia mancanza di interesse ma devo prenderne atto non mi importa nulla degli archivi e provo nausea per i documenti l'unico documento sono io la carta moschicida del ricordo una cosa però devo confessarla scorrendo gli appunti dei suoi ultimi mesi l'ho scoperto ossessionato dalla defecazione forse saranno cose comprensibili con l'avanzare della vecchiaia e il progressivo allertamento dell'organismo come se un comandante ritenesse indispensabile passare in rassegna alle truppe per contare i feriti ai dispersi tra una battaglia e l'altra o durante un assedio vecchiaia e accerchiamento preparativi per una capitolazione che non prevede l'onore delle armi ma c'è dell'altro quell'insistere sul processo della deiezione mi ha svelato retrospettivamente il senso stesso della sua morte o meglio della morte leidi pretendeva di rilasciarlo dall'ospedale proprio quel giorno un'orrenda dottoressa becchino ma lui si sentì troppo male ebbe una grave crisi respiratoria e venne messo sotto ossigeno aveva una bella pelle ma ormai diventata oleosa una pasta lucida cerata come quella di certi formaggi olandesi ecco chi è fortunato e morrà a letto sappia che avrà l'aspetto di un formaggio olandese con la pellicola molle e trasparente come per modellare figurine andiamo tutti quanti verso il formaggio e la cera andiamo tutti verso il formaggio olandese saremo tutti vecchi luccicanti saremo tutti prodotti caseari comunque sia non era più cosciente e cominciò ad ansimare accanto a lui stavano due infermiere né più né meno che i ladroni e cristo mi riferisco al misterioso fenomeno della cura tale per cui chiunque lavori in ospedale subisce una violenta polarizzazione dell'elemento umano scomparse le persone comuni restano solo santi o criminali a destra stava una donna sciatta e sguaiata la quale forse credendo di essere gentile insisteva a dargli del tu e lo trattava come un bambino cosa non le avrei fatto se solo fossi stato mio padre in salute cosa non le avrei detto se solo fossi stato mio padre in salute dall'altro lato lo sosteneva un essere dolcissimo dedito a sussurrargli parole di conforto e lo accarezzava piano io continuavo a guardarlo come un cane che divori ogni particola di un osso la sua immaginazione era il mio osso e i miei occhi denti piragna allora andavano rosicchiando mio malgrado minutissimi dettagli un neo sul braccio sinistro mai visto fino ad allora la zona sotto il mento malrasata i bottoni i bottoni del pigiama il respiro diventava sempre più difficoltoso restai solo a tenerlo e lo vedevo concentrato come non mai dietro la maschera per la respirazione con gli occhi chiusi intento a respirare avrai creduto ma non era così non mi vedeva nemmeno la cosa che più mi commosse e mi commuove ancora è il modo in cui si faceva forza con un braccio seduto sul lettino spingendo con la mano sinistra come per tirarsi su chi si appoggia sul braccio così mi dicevo quando ci si appoggia sul braccio così mi chiedevo dove ci si appoggia sul braccio così mi scervellavo adesso lo so ma in quel momento sarebbe stato impossibile pensarlo ci si puntella così per defecare questo dunque è il segreto dei segreti mio padre cacava se stesso o si accacciava via quel tremendo bolo che ormai era diventata la sua vita non cercava di trattenerla al contrario soffriva proprio perché non riusciva ad estrarla e spelleva se stesso dal mondo e io che non lo avevo mai visto al gabinetto dovevo assisterlo in quel gesto postremo era il contrario di quanto avviene in salaparto la differenza sta nella mancanza della madre per questo il morente è chiamato a impersonare due ruoli insieme è la fattrice e il neonato l'espulsore e l'espulso si tratta di ripassare dall'altra parte e il cunicolo è stretto nessuno proprio nessuno può aiutarti il punto è questo devi farlo da solo affrontando una dilatazione topologica dello spazio in cui la coscienza o lutoria è chiamata a istroflettersi non ci furono grida o contrazioni bensì il paziente estrarsi di sé da sé come nel caso della bottiglia di clay laddove il contenente si travasa nel contenuto e tutto nella tristezza delle feci il cui congedo di uturno mio padre andava annotando con tanta straziante acribia pian piano è uscito tutto dalla sua vita sgusciando via alla fine fino in fondo il braccio poi non gli è servito più e ha smesso di far leva l'ho visto sparire sotto i miei occhi sarà sbucato dall'altra parte del mondo il figlio come un filo che deve entrare nella cruna della propria crescita il padre come un filo che va sfilato mio padre era un pessimista praticante forse per questo ho sempre detestato gli stilisti del pessimismo per me non c'era molto da scherzare quando sulla mia casa ogni domenica cadeva la mannaia della noia altro che sillogismi o paradossi fino all'ora di pranzo si rideva anni sessanta e la cerimonia della radio che ascoltavamo a tavola dopo aver mangiato c'erano indovinelli da risolvere e mio padre brillava incontrastato tra lo stupore del piccolo uditorio ma perché non si presentava come concorrente avrebbe sbaragliato ogni avversario lui splendeva di gioia per così poco il poco che sempre ci inebria eppure si ostinava a fare il modesto e si schermiva una bella luce pomeridiana scaldava la scena ma già l'ombra avanzava e il pomeriggio festivo piombava su di noi come una belva sbranando il resto del pasto e sbranando noi era il tedium vite io non conosco la noia come sensazione per me rappresenta piuttosto un materiale è un tipo di velluto feltro o fustagno è stoffa è panno è la mia vita morta e mio padre iniziava a inabissarsi gemeva e sospirava in preda al fastidio compiendo gesti subito interrotti un libro il giornale niente ogni tanto uscivamo ma solo per tornare ancora più allibiti dalla sua insofferenza in tutto ciò la radio solfeggiava i risultati delle partite di calcio una specie di canto gregoriano che ho sempre associato al nadir del mio ciclo settimanale ancora oggi se mi capita di captare quelle litanie sprofondo in una tristezza illimitata lui smaniava incapace di far passare il tempo un'anima in pena si dice ed era penoso a vedersi soltanto il lunedì poteva guarirlo quando tornava al lavoro l'unico lenitivo di quella tenebra domenicale che già vedeva avvicinarsi di nuovo da lontano logico che davanti al suo comportamento mi venisse in mente il racconto di un lupo mannaro anche perché lui stesso narrava una storia terribile tramandatagli dal padre l'avventura si svolgeva in un piccolo centro del basso Lazio all'inizio del secolo scorso pare che il ciabattino del paese soffrisse appunto di ricantropia per questo motivo ogni mese gli abitanti si preparavano a fronteggiare la scadenza quando arrivava la sera si chiudevano tutti nelle loro case e facevano in modo di lasciare il poveretto consenziente all'aperto finché non cominciavano strazianti gli ululati ora spiegava mio padre mio nonno sosteneva di essersi arrampicato su un cornicione durante una di quelle notti rituali ferendo il calzolaio sulla nuca con un coltello fissato ad un bastone come nelle leggende una stilla di sangue sarebbe stata sufficiente a salvarlo facendolo di colpo tornare in sé questo fu quanto accadde nel villaggio ma certo non da noi che avrei dovuto fare salire sull'armadio arpionare mio padre dall'alto come a ciab vaccinarlo dal morbo della nausea non se ne fece nulla e il mio lupo bannaro continuò a vagare per anni ogni domenica senza che mi riuscisse mai di incidere il suo male e poi di quale male si trattava forse la sua incapacità di trascorrere quelle ore vuote era la stessa che incontrò al momento del trapasso era la sua coscienza del tempo a procurargli tanti tormenti così ho trascorso l'infanzia vicino ad un mostro di natura anche se non ne rimasi contagiato ma chi me l'assicura la sua presenza alterò gravissimamente il mio senso del reale avere un padre avvelenato dal tempo ma più che avvelenato posseduto posseduto dall'ira e dalla noia un padre metamorfico insomma come certe vocali come certi particolari stati della materia egli appariva fondamentalmente instabile lo vedevo mutare assentarsi migrare e diventare letteralmente altro svelando una natura mobile precaria mercuriale mio padre andava errando usciva da se stesso come certi iniziati santoni gimnosofisti rispetto a quei modelli la differenza stava nella sua completa inconsapevolezza ignorava di avere doti sciamaniche ma che le possedesse non c'era dubbio era già anziano per esempio quando una notte fu colto da una febbre altissima arrivai che era in trance sorridente pacato e insieme perfettamente lontano dove era finito lo sguardo vagava sereno mentre assentiva in un bagno di sudore allarmato dalla temperatura che aveva ormai superato i 40 gradi cercai di sfilargli in vano il maglione rosso amaranto che insensatamente indossava sopra il pigiama finché esasperato decisi di tagliarlo tagliandolo resecando quel nastro mi sembrò di ufficiare una qualche enigmatica incongrua cerimonia di inaugurazione e in effetti qualcosa si inaugurava il cape canaveral della sua partenza ossia la centrale di lancio che lo avrebbe spedito nell'ultraspazio mentale mio padre che continua ad annuire ed io che recido la lana afforbiciate zic zacc liberandolo dal suo bozzolo avvelenato il pullover di nesso una grande pupa un baccellone un baco davanti a me sta l'immagine della vecchiaia un essere fasciato è inerte un corpo arreso agli altri aria beata è distante è proprio della distanza vorrei parlare quella distanza che diventò malattia invadendo lentamente la sua vita nel giro di pochi mesi quello dei forbicioni fu un semplice episodio che non si ripete più di lì a poco però cominciarono i preparativi per la spedizione mio padre si accinse ad entrare nelle terre di Parkinson commentando le sue versioni francesi di testi composti originalmente in inglese e viceversa Samuel Beckett confessò lo sbigottimento provato nell'attraversare gli spazi desolati e inospitali dell'autotraduzione aiutare la propria opera a cambiare lingua deve provocare un effetto straniante ebbene credo che il Parkinson riproduca la stessa sensazione di deriva una corrente che trascina via una corrente che trascina verso l'altrove della parola le grandi pianule di Parkinson i grandi altopiani di Parkinson Parkinson come Cristoforo Colombo lo scopritore di un nuovo continente ma i suoi malati piuttosto come Amundsen senza ritorno dal viaggio intrapreso meglio ancora di Beckett Philip Dick la storia infatti è quella del suo eroe Palmer Eldricht inventore di una droga che procura una sorta di esilio temporale chi ne fa uso si trova a vagare nelle distese della propria infanzia smarrito nel passato chi accede a quella spaventosa eucarestia è condannato a restare nella vita trascorsa senza più alcun orientamento dove sei finito da dove chiami mio padre un bel giorno salpò mi saluta da lontano io rimasto a riva lo vedo mi vedrà ancora per poco saluta e sorride si imbarca allora ho capito davvero che la vecchiaia è droga un fungo allucinogeno altro che le sue lunghe sigarette nei dopo pranzo ipnotici consacrati al tabacco qui si trattava ormai di translazione psichica uscire da sé ecstasis bisognava figurarsi un astronauta che trunchi il cavo con cui è collegato alla navicella persa ogni speranza di recupero mio padre non aveva più dove tornare e ormai abitava lontano dai compagni a una distanza che solo il suo sguardo riusciva a misurare o forse quel cavo era il maglione che io gli tagliai in due e da quel giorno non è più tornato ha continuato a galleggiare a lungo come in assenza di gravità nella stratosfera della sua malattia isolato nel nulla definitivamente sganciato da sé e dal linguaggio ci sarebbe un'immagine che è un'immagine poetica il padre anziano come una scorza il vecchio che si secca corteccia che si stacca dall'albero ma preferisco pensare a una tessera smagnetizzata vai per pagare e non funziona più eppure dovrebbe essere carica la scheda plastificata è lì la scadenza lontana vero ma non va più quello della scadenza è un concetto cupo che mi riporta al suo ultimo anno di vita chiacchieravamo a tavola e lui taceva un tratto però come per un sussulto elettrostatico esce dal suo stand by e si riaccende per raccontarmi un sogno gli era apparso qualcuno una voce gli era apparsa una voce che gli aveva profettizzato la sua morte imminente di tutto quanto disse mi colpì soprattutto il suo commento con un condizionale dolente e intraducibile come sarebbe a dire nulla ai suoi occhi poteva giustificare un annuncio del genere che lo lasciava insieme stupito e indignato trassicolava per l'impudenza dell'entità che aveva osato interferire nei suoi progetti reagiva come di fronte a uno dei tanti sopprusi che si era sempre rifiutato di accettare come sarebbe a dire ictus sostantivo latino con accento breve sulla seconda vocale sta per colpo percossa urto è quello della disgrazia e del pericolo spiegano i dizionari quello del gradiatore sull'avversario quello del lampo sulla cima di un albero o quello dei remi che battono sull'acqua ma è anche la zannata del cinghiale o la morsicatura del serpente descrive qualcosa di violento repentino talvolta irreversibile e come tale va impiegato nel linguaggio medico la somiglianza fra l'imitatore e il suo modello scriveva Petrarca a Boccaccio deve essere come quella tra padre e figlio imponendosi anche quando essi risultino molto diversi d'aspetto un certo non so che che i pittori chiamano aria e che si rivela soprattutto nel viso e negli occhi produce quella somiglianza la quale fa sì che subito vedendo il figlio si ricordi il padre benché se si scendesse a un esame particolare tutto parirebbe diverso così il traduttore italiano in latino però c'è un'altra parola al posto di non so che e questa parola è umbra dunque quello che unisce padre e figlio va cercato in una ombra aria in un velo adesso mi ritrovo io sono legato a mio padre da un'ombra dall'ombra che ho sempre incalzato una parte dell'ombra una piccola parte di quel tossico mi ha insegnato mi ha intaccato non così a fondo come lui ma di striscio lasciandomi a metà strada rispetto al suo buio ipocondrio diciamo un monatto così mi riconosco quasi salvo ma ancora marchiato dall'incontro col male domenicale con la noia bubonica via delle fornaci un male del tempo ma anche e non da meno degli oggetti qui sì che il contagio ha colpito con tutta la sua forza me lo rivedo in piedi sempre all'ora di pranzo mentre tenta di aprire una scatola di biscotti la carta non cede lui tira ma la chiusura tiene vedo l'ira riempirlo mano mano granello per granello mentre il volto si turba e si rabbuia come l'ampolla inferiore di una clessidra che si va colmando infine quando tutta la sabbia è travasata giunge lo scatto l'urlo e la sua ridicola catastrofe scaglia il pacchetto a terra lo calpesta e sbriciola e disintegra ogni cosa preda di un'energia che lo percuote da sempre quali infiniti giacimenti di furore nascondeva dentro di sé alimentandoli giorno dopo giorno che pena quell'ombra quei pozzi d'ombra a cui doveva attingere era mio padre un'abitazione costruita su un pozzo un pozzo senza fondo solo più tardi seppi che il suo parkinson era prodotto da centinaia di ictus accumulati nel corso di decenni estrema ironia il percussore percosso l'ictus che sembrava abbattersi sui biscotti in realtà si abbatteva su di lui il povero biscottino della morte ogni colpo un sussulto ogni grido uno strappo dentro quel suo pacchetto cerebrale che andava strappazzando e lacerando sotto i miei occhi atterriti un Cassius Clay della rabbia mi ha fatto segno dei propri stessi colpi è inutile è come la scena di quel film in cui il sopravvissuto ad un naufragio tenta inutilmente di allontanarsi dall'isola dove è rimasto abbandonato per anni riesce ad arrivare fino all'atollo poi le onde lo riportano indietro così io oggi pomeriggio ho distrutto una stampante saltandovi sopra a pie pari due tre quattro volte pensavo fosse più fragile ma non è questo il punto è che mi sono accorto di essere ancora schiavo di un meccanismo mimetico da cui mi consideravo ormai salvo invece i flutti mi risucchiano indietro io sono mio padre che salta sull'apparecchio guasto così come lui saltava sopra i suoi biscottini cosa è cambiato niente sto qui amareggiato amareggiato senza neanche un po' di soddisfazione per l'atto devastatore che ho compiuto clastomani la nostra è una famiglia di clastomani ovvero di creature sofferenti offese dalla vita dagli oggetti medesimi siamo gente posseduta dalla mania di sfondare le cose grande idea di mio figlio in una discussione sui designer costruire oggetti che soffrano e che si accorgano del dolore che procurano provandolo a loro volta ad ogni modo ho tutte le ragioni per agire così ciò non si discute per quale perverso motivo la mia vita deve essere invasa da simili colonie di metastasi da oltre un anno ogni volta che provavo a stampare qualcosa il meccanismo si inceppava per due o trecento volte mi sono dovuto chinare sotto la scrivania per infilare fogli sopra sotto verso recto nuovi di risma o carta riciclata magari cambiando inchiostro giallo nero magenta azzurro verde perciò alla fine in un radioso sabato di marzo dentro di me divampa una rabbia cieca cieca al contrario una rabbia preveggente e retroveggente davanti alla quale scorrono piano piano le ore le decine di ore che ho passato per terra rannicchiato schiavo di un meccanismo difettoso è sbaglio certo ma sono solo errori di metodo so bene che avrei dovuto sostituire l'apparecchio già molti mesi fa e con tutta calma e invece sono qui preda di un'esistenza da animista fatta di affronti duelli ferite chissà chissà che covata di ictus si sta schiudendo intanto dentro le tenebre membrane della mia massa cerebrale perché non mi dedico a loro perché non curo quelle nidiate di polvere sinapsi che non capiscono nulla dell'onda elettrica da cui sono travolte spazzate via così da un momento all'altro clastomane clastomane mi fai pena mi faccio pena in queste giaccherie contro gli oggetti un povero pezzente come quei contadini rivoltosi condannati a pagare fino all'ultimo la loro insurrezione quando sarò sepolto voglio che sulla mia lapide sia scritto si è spento a ventidue anni il resto quale che sia non va contato è l'unica inarrestabile colata di fango e di merda come quella che ha cancellato tanti paesi italiani nati dalla speculazione altro che le pagliuzze d'oro nei momenti felici di cui parla l'eroe del gatto pardo aggiungo inoltre a titolo personale la profonda convinzione che il coperchio della mia bara dovrà essere avvitato dall'interno perché sono sicuro che all'ultimo momento la prevedibile incompetenza del becchino mi obbligherà ad occuparmi anche di questo ameno ultimo lavoretto mi vengono le vertigini solo a pensare a quante ore ho passato alla posta in banca negli studi medici a quanti minuti ho speso per cercare ogni giorno talvolta due tre volte al giorno il telecomando nascosto questa non è vita si usava a dire in effetti passare tre lunghissimi minuti per aprire una confezione di cracker non è vita bensì un tentativo di rapina a mano armata per rubarci qualche briciola di vita ma sì distruggili per sempre quei cazzo di biscotti ecco perché ora io sono mio padre e grido sotto tortura reagisco a chi mi sottrae l'essere in vita uno fra i beni più preziosi e rari di cui disponga è questo ora capisco il motivo di quella sensazione così diffusa che ci fa dire ho 60 anni eppure mi sento ancora giovane in verità noi siamo rimasti giovani perché il giornato e i mesi divorati dalla grande colata quotidiana non possono produrre esperienza ossia non ci fanno crescere ma soltanto invecchiare riparare 250 volte il dispositivo di ricarica di una stampante lascia l'anima intatta nel tempo fossilizzata come un insetto nell'ambra il corpo certo muta e si corrompe ma senza che la nostra vita si accresca con lui così dopo tre ore di fila agli uffici comunali io sono rimasto lo stesso di prima sebbene il mio organismo abbia accumulato tre ore in più ciò spiega perché il divario si allarghi inesorabilmente fino a creare due vere e proprie corsie mentre la vita si sviluppa lenta l'età anagrafica aumenta insieme ai detriti ed eccomi qua un ventenne mezzo calvo miope con la schiena a pezzi e qualche protesi la diffidenza tra la mia impressione di giovinezza intera e l'effettiva corruzione fisica corrisponde a quanto mi è stato sottratto abusivamente cioè la suddetta colata io ho ventidue anni di vita più trentatré di merda da burocrazia laboratori clinici a stanteria ricerca di parcheggi visite militari e infine stampanti un'unica inarrestabile colata dicevo come quella che ha cancellato tanti paesi italiani nati dalla speculazione dunque potrei affermare che mio padre e dio siamo espressione di un meridione povero abusivo creati per crollare e venire giù insomma vocati alla frana altro che santo fratello la frazione del messinese completamente sbriciolata da uno smottamento santo padre piuttosto santissimo padre noi sbriciolati sbricioliamo le cose che ci sbriciolano così va meglio ma purtroppo è vero anche il contrario ossia che sbriciolando le cose che ci sbriciolano gli sbriciolati accelerano il loro sbriciolarsi l'unica consolazione è nella luce che produciamo bruciando la mia candela arde da due capi l'altro ieri ho trascorso il suo primo compleanno senza di lui ma esiste il compleanno dopo morti perché no dopo tutto la nascita resta un fatto indipendente dallo stato del soggetto e irreversibile che non può comunque essere revocato piuttosto mi è venuto da pensare all'anniversario della sua scomparsa anche quello a modo suo un compleanno anzi in un certo senso morire significa acquistare un secondo compleanno quello definitivo il comple morte insomma il tanatriaco ovvero la tana libera a tutti il tana libera a sé ragazzi e ho detto ma si chiamava giacinto un nome che per anni mi espose all'udibrio generale l'unica mia difesa era evocare la smagliante figura del difensore facchetti due fiori due eroi greci. Vacanza sull'Appennino, in casa di uno zio, per quasi tre mesi ogni estate. Mio padre viene a trovarci soltanto un paio di giorni in tutto, giorni fatati. Stiamo per andare a dormire dopo cena e lui si blocca di colpo davanti alla porta d'ingresso. Che c'è? Gli domando. Nessuno è più entrato da almeno venti minuti, risponde, eppure la chiave continua ad ondolare. Restammo a lungo a fare avanti e indietro prima che quell'oggetto si fermasse, e ci chiedemmo a lungo quale portento domestico fosse riuscito nel miracolo di abolire l'attrito, instaurando il reama incantato del moto perpetuo. Sono passati almeno quarant'anni da questo fatto, e non lo avevo mai più ricordato. Quando oggi pomeriggio, entrando in camera, ho scoperto una stampella che dondolava, appesa a una taccapanni. Ero solo in casa, e avevo lasciato la stanza venti minuti prima. Non credo nei fantasmi, ma nelle chiavi, nelle stampelle, sì. Che avrà voluto dirmi? Forse solo un saluto, un salutino. Se non gli ho parlato abbastanza quando stava già male, è perché non avevo nulla da dirgli. Soltanto frasi vuote, parole d'ordine, un formulario standard. Pura funzione fatica. Prova il microfono. Ci sei? Mi senti? Io ti sento. Mi chiami? Chiamami, così ci sentiamo più tardi. La storia dell'amico pittore che aspettava dei quadri dal proprio gallerista. Una volta che passi te li do, si sentiva ripetere ogni tanto. Poi un bel giorno finì che passò veramente, e quello al momento del commiato. Allora chiamami, così quando vieni te li do. Perché il mio amico tacque? Eppure poteva dirlo. Sono già qui! Non lo fece. Continua ancora ad aspettare i suoi quadri. Per me era lo stesso, solo che non avevo nessun quadro da dargli. Però trovai due strade. In ospedale spesso vaneggiava, ma anche quando era in sé, benché conservasse una velata lucidità, non gli riusciva più di concentrarsi. Fu allora che mi accorsi di quanto amasse la musica. Non come un romane, ma come un tossico dipendente. Novalis, ogni mattina è un problema musicale. Ogni cura è una soluzione musicale. Io fischiettavo qualche melodia, e lui veniva dietro. Topolino di Hamelin. Raramente ho capito così bene il senso di totale dipendenza in cui consiste l'ascolto. Viene da qui l'idea che Anfione e Orfeo muovono i sassi. Qui etino le fiere. Quasi mi vergognavo, per la facilità da domatore con cui lo riducevo all'estasi, inducendo meccanicamente in lui un benessere incontenibile. Ratrocesso a uno stato di ebetudine, il malato cantava ogni minimo cenno, trasformato in strumento di piacere, del proprio piacere. Gli ultimi giorni di Kant, il filosofo a cui prende fuoco la parrucca, e la tremenda vergogna per la propria debilitazione. Ma qui stava mio padre, che rideva beato, e che io fischiettavo, legato alla melodia, probabilmente, più ancora di quanto non lo fosse lui. Chi guidava la danza? Chi seguiva? Eravamo una coppia roteante, lanciata dentro il vortice sonoro. Mentre scrivo in treno, due ragazzi seduti ingannano il tempo divertendosi a proiettare sulla parete i riflessi dei loro orologi colpiti dalla luce. Due puntolini bianchi che si inseguono, due insetti di fulgore. Siamo noi due? Io e mio padre, nel ricordo? I fantasmi sono bagliori, ma io da solo posso farne uno solo, e quell'unico resto sempre io. Lui continua a mancare. Desiderio di rievocarlo. Perché? Forse perché mi manco. È così. È come se soffressi per la mia morte. Infatti, ai suoi occhi, il morto sono io. Io l'ho perso, nella stessa maniera in cui lui ha perso me. È come se avessi perso, per un lutto riflesso, una parte di me. E dunque mi compiango, molto più di quanto non compianga lui. Mi guardo attraverso i suoi occhi. Ci siamo morti entrambi, reciprocamente. Con la sua morte è stata la nostra coppia a scomparire. Ormai siamo sbagliati, definitivamente. Perciò, parlando di lui, passo dalla sua parte, gli giro dietro, gli vedo le carte, mi vedo al di là del tavolo da gioco, e scopro che per il suo sguardo io non esisto più. Morendo, lui ha perso suo figlio. Un nodo talmente complesso, da non capire più a quale dei due capi ora mi trovi. Due strade alternative alla parola, dicevo. Se una era la musica, l'altra invece era il tatto. Tutto cominciò da una serie di suoi impellenti bisogni fisici che nessuno sapeva, poteva o voleva sbrigare. Aveva appena finito di tagliare le unghie a mia figlia bambina, ormai cresciuta, che dovette iniziare con lui. La prima volta, un senso di rigetto addirittura minoico, fare la toilette mortuaria al re, sia pure per introdurlo nel suo ipogeo. Mi sembra un gesto blasfemo, intollerabile. Poi compresi che si trattava piuttosto di una preghiera, di un culto più e dimesso. Un culto agrario. Se tacevamo, almeno lo toccavo, lo detergevo. Gli toglievo via quell'aspetto forastico che sempre accompagna l'adegenza. Dimenticare l'odore dei bambini, unghie flessibili, polite e morbidissime. Qui legna secca, fascina invernali, per il freddo che arriva. Ricordo bene la maledizione di Noè contro Cam. Se venne scagliata, però, non fu perché quel figlio l'aveva visto nudo, addormentato e ubriaco, bensì perché era andato a riferirlo ai fratelli, come per invitarli a uno spettacolo. Invece non c'era niente da vedere. Sam e Japheth lo sanno, e proprio per questo afferrato mantello si avvicinano al padre in modo da coprirne le vergogne. Ma ecco il dettaglio più toccante del racconto. Per evitare di guardarlo, camminano all'indietro, e siccome avevano la faccia volta indietro, non videro le sue nudità. Indubbiamente la delicatezza del gesto va riportata a un mondo in cui vivono terrori superstiziosi, dove cioè il rispetto nasce dalla paura prima ancora che dall'amore. Medusa. Eppure un simile stratagemma esprime anche un'innegabile pietà verso il padre nudo, totem inarrivabile. Quando mi accade, non ero preparato alla visione. E come prepararvisi? Me lo trovai davanti arreso e smemorato, ma già non era lui. Doveva aver mandato un sostituto, un sosia, un cagemuscia. Non mi girai e rimasi a specchiarmi nel mio specchio genetico, in quel corpo da cui provenivo. La cosa più simile a me che avessi mai incontrato. Pre me, para me, meta me. Padre e baccello. I lunghi muscoli bianchi dei quadricipidi, linguine il pene, come per un lavacro funebre. In sua assenza, mentre vagava nelle sterminate praterie del Parkinson, ho avuto accesso al sancta sanctorum del sesso. Era il corpo del re, denudato da un infermiere che, come a suo tempo camma, non riusciva a distogliere lo sguardo. A che età si smette di essere orfani? Un uomo che perde il padre, mettiamo, a 60 anni non si può dire tale. Pena è ridicolo. A 10 sì, ma a 30 e a 47. È l'età giusta la mia. Morto che parla. Semi orfano che prende la parola. Un amico mi ha raccontato che alla morte del padre aveva appena 14 anni. Venni spezzato in due, come un grissino. A distanza di tanto tempo, l'immagine continua a visitarmi. Nulla è più chiaro e domestico di quella specie di femore biscotto che fa clac e rimane rotto in due. Quanto a me, un orfano ad honorem. Il modo in cui facevo il bagno al mare, la scarsa dimestichezza con la pioggia. Mi faceva pensare a Jacques Tati. La sua generazione, la sua estrazione sociale, lo avevano sempre tenuto lontano dall'acqua. Per galleggiare galleggiava, ma il nuoto, quello che io praticai per quasi vent'anni, il nuoto è un'altra cosa. Si scendeva in mare come si scende a patti. pallido, freddoloso, diffidente, un piede prima, poi la lunga frizione del busto, il costumone che si inabissa e infine la spinta nel bagno lustrale. Circospetto severo, lo vedo, mentre incrocia avanti e indietro, a tre metri d'ariva, ma soprattutto preoccupato, addirittura atterrito all'idea di bagnarsi i capelli, rossi e ondulati come quelli di un fiammante David Niven. Più che nuotare, sembrava partecipare a una processione marina. Incedeva nell'acqua con lo stensorio del volto recato in offerta votiva. Andrava in mare, come si intinge l'ostia dentro il vino. Un atto lentissimo e liturgico, candido, secco, leggero, trasparente. Un ossicino di seppia, sospinto dalla corrente. Brezza, tema il sole, chiaro di pelle. L'elevazione mistica conclusa si avvoltolava meticolosamente in un asciugamano e ritornava a casa. Almeno per quell'anno la stagione balneare poteva dirsi terminata. Il suo forte era il calcio, l'unico vero antidoto alla noia dei giorni festivi. Il suo antidoto, cioè il mio veleno. Devo infatti confessare che giocare da soli col padre è un momento struggente e insostenibile. Quei pomeriggi domenicali a fare due tiretti mentre una radiolina gracchiava i risultati. Non mi sono ancora ripreso. Eppure, se quell'ora di scambi e di consigli mi fa venire ancora il groppo in gola, devo esserle grato per quanto seguiva la nostra partitella. La luce andava via, arrivava il freddo, e allora, accaldati e tremanti, ci infilavamo in un antico caffè nei pressi di Villa Borghese. Era un ritrovo d'altri tempi, con vetri molati e legni alle pareti, camerieri vetusti e gran gelati. L'hanno spazzato via quel vecchio bar con le ruspe, il tritolo, i caterpillar. Hanno dovuto raderlo al suolo, in un cantiere orrendo che sembrava Bagdad. Quell'unico nido, caldo e luminoso nelle tenebre, che ci aspettava la domenica sera. Comunque sia, non gli potrò mai perdonare d'avermi fatto indossare una divisa della AS Roma Calcio, con cui fotogrammi, a sette o otto anni, su un banco d'alghe, nel primo pomeriggio di una domenica invernale. Shagura parte, credo sia l'immagine più triste della mia vita. Cosa ci fa un bambino solo, e in perfetta tenuta sportiva, sulla spiaggia, a gennaio, e proprio nel momento in cui gli apparecchi cominciano a trasmettere le loro salmodianti radiocronache. In quello sguardo sgomento mi ritrovo ancora per intero, mezzo secolo dopo giù di lì. Era una sera d'estate quando giocarono Italia-Germania, e che contrasto vissi durante quella partita, chissà perché mi ritrovai a vederla con mio padre, in modo tale che feci esperienza dell'epica in cucina. Quel lungo altelenarsi di risultati mi parve elettrizzante, ma a lui dovette sembrare intollerabile. Ecco perché ricordo soprattutto i supplementari. Dopo il secondo pareggio, infatti, non resse più e se ne andò via, lasciandomi da solo davanti al televisore. Si rinchiuse nel bagno. Così per tutto il tempo. Io lo chiamavo, e lui chiamava me, per conoscere cosa stava accadendo, per sapere cosa si stava perdendo. Tuttavia non poteva, non poteva guardare. Temeva per il cuore. Quel cuore. Quanta apprensione per quel cuore. Fino a che proprio all'ultimo scoprimmo che era la cosa più sana del suo corpo. Una fornace, un diesel, una caldaia sufficiente per due locomotive. E poi, quando mancavano pochissimi minuti, me lo trovai di fronte all'improvviso, dietro lo stipite della porta, come un'anima in pena chiamato dalle immagini, ma insieme dalle immagini respinto, come un lupo mannaro, come una fiera che vaghe intorno al fuoco, impedita dal fuoco. Solo che alla fine corse ad abbracciarmi, sciolto dal suo incantesimo, felice perché libero, più felice di me. Mia padre era nato il ventun gennaio del millenovecentoventuno, dato curioso sotto diversi aspetti. Innanzitutto dal punto di vista zodiacale, stava a cavallo fra capricorno e acquario, mescolando due segni quasi opposti fra loro. In secondo luogo, cade proprio nel giorno che vide la fondazione del partito comunista italiano. Infine, rinvia a quello in cui nel 1793 venne decapitato Luigi XVI. Non male per una torta con le candeline. Rivoluzione e sovranità vi si trovano, cioè inestricabilmente collegate, rinviando a un'autorità che sembra venire festeggiata solo con il segreto intento di farle la festa. Dunque, come lui stesso teneva a ricordare, il suo genetliaco coincideva sia con un regicidio, sia con la nascita del partito che nell'Italia del primo dopoguerra rappresentava agli occhi della piccola borghesia una forza oscura, insurrezionale e sovversiva. Insomma, sin da piccolo non afferrei mai bene se ogni 21 gennaio dovessi celebrare papà o la sua caduta. Mio padre, Mussolini e la fotografia. Cugino e amico di Partigiani, lui dopo l'otto settembre si nascose spinto da un istintivo odio verso tedeschi e collaborazionisti. Nient'altro. Quel che più importa però è la maniera in cui da molti suoi atteggiamenti trapelava l'imprinting del duce. Lo si capiva subito quando doveva mettersi in posa per qualche foto. Come per un tropismo, come per un riflesso condizionato, le braccia si flettevano e i pugni li finivano sulle anche, mentre il mento veniva avanti, sollevandosi sensibilmente. La sua era infatti la generazione della mascella, afflitta da una specie di prognatismo politico. Scherzando, certe volte lo chiamavo il ganascia, a causa di questo inavvertito mimetismo che per l'appunto raggiungeva l'apice non appena compariva un pallone. Mento in fuori, braccia ad anfora e la sfera di cuoio sotto il piede. Mio padre diventava piola e insieme a Mussolini in un allineamento premonitore, ancorché esclusivamente posturale, fra calcio e ideologia. È questo ciò che intendo per fascismo ossolubile. Il modello del capo diluito nell'acqua madre dei gesti, delle espressioni individuali, sciolto in dosi omeopatiche, nell'esistenza quotidiana dei sudditi. Acascia, piazza Magrelli, lontano zio torturato. Oncle ed ongle, strappata dalle dita. Infinita pietà del bambino che ne ascolta la morte. Mi correggo, nessuna piazza, bensì i giardini Mario Magrelli. Cugino e amico di partigiani, dicevo, ma era una storia vera. Finché, grazie all'Inxmli di Milano, Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, ho trovato un articolo comparso sull'edizione romana dell'Unità nell'agosto 1940, Fondo Corpo Volontari della Libertà. Ecco l'inizio. Mario Magrelli è un martire da ricordare e onorare. È uno dei tanti eroici figli del proletariato caduti lungo il cammino ascensionale delle conquiste sociali. Egli ha esaltato la sua fede a nostra gloria, con il suo sangue purissimo sgorgato dalle piaghe del suo martirio. Dopo alcune righe più generiche, il testo continua ricostruendo una vasta, eroica genealogia. Egli appartenne ad una famiglia di patrioti e di cospiratori per la libertà d'Italia in ogni tempo. Da Domenico Magrelli, condannato a morte e poi graziato nel periodo papale, a Veriano Magrelli, iscritto alla setta dei Carbonari, che ebbe rapporto con Garibaldi, ad Achille e Zeus Magrelli, di cui l'uno fu combattente valoroso nelle guerre per l'indipendenza e l'altro si spense in carcere, dove era detenuto per reati politici, fino a Romeo Magrelli, morto il 21 gennaio 1935, in conseguenza delle vessazioni fasciste. Tutti seppero sopportare persecuzioni e condanne per le loro idee. Poi il pezzo passa a descrivere il protagonista. Mario nacque a Cascia il 23 agosto 1903. Trasferitosi a Terni fu operaio nella fabbrica d'armi e vi rimase fino al primo bombardamento della città, durante il quale ebbe la sua casa colpita e ogni suo bene distrutto. Sfollato a Cascia, vi trovò vivo fermento ed apertamente mostrò i suoi desideri per la rinascita dell'Italia, poiché l'unico suo grande ideale era il poter vedere l'Italia risorta e liberata da qualsiasi schiavitù, pronto per questo a combattere e a dare anche la vita. Ed eccolo imbracciare il mitra nel fatto d'armi del 9 novembre, quando il paese aiutato e sorretto dai patrioti insorse contro la capacità degli invarosi, leggi invasori, ed eccolo, finiti ristrellamenti, ricercare i compagni feriti o smandati. Seguirono alcuni esempi del suo valore, ma già la fine incombe. Passati così i mesi invernali, col tornare del bel tempo vennero tristi giorni per Cascia. Iniziarono le barbare rappresaglie tedesco-fasciste, che costrinsero i patrioti ai duri sacrifici che impone la macchia. Egli, non volendo abbandonare né i compagni né i familiari, si ritira nel suo casale vicino a Cascia, potendo così meglio aiutare i compagni, sia materialmente che spiritualmente. Il 10 maggio 1948 è ricercato al suo casale. Catturato viene interrogato sul posto fra le più barbare torture. Vogliono fargli tradire i compagni, denunziare gli amici. Gli promettono salva la vita se parlerà. Ma non sanno, i sicari, che soltanto i vili parlano alla vista dei fucili. I forti muoiono piuttosto che pronunciare una sola parola. Gli ultimi quattro capoversi ci gettano nella più buia delle tragedie. Sfinito dalle torture subite, gorondante sangue dalla carne lacerata e trafitta, viene presentato al padre angosciato, tenuto sotto la mira dei fucili, ed ha la forza di rivolgergli parole di incoraggiamento, di fede. Decisa la sua morte, viene sottoposto ad altre più raffinate torture, fino a fargli uscire gli occhi dalle orbite per essergli ne strappato uno, e cade con un pugnale infitto nella gola sotto le raffiche della mitraglia. Per il povero padre suo e la sorella condotti in prigione, per i fratelli il dolore è infinito. Tutto il paese attonito ed angosciato decide per lui solenni funerali, ma vengono vietati. L'umile silenzioso eroe, che per la libertà della patria immolò sorridente la sua giovinezza, ci indicherà per sempre la via dell'onore. Faccio girare fotocopia dell'articolo in famiglia, e mio figlio mi chiede a bruciapelo se io avrei fatto lo stesso, ossia taciuto ai nomi dei compagni. A bruciapelo gli rispondo di no, mai, e che nessuno resiste alle torture. Ma in verità non sto pensando a me, bensì a lui. Non che io mi ritenga capace di un simile eroismo, anzi, tuttavia, dimostrandomi arreso, dentro di me gli sto dicendo di non arrendersi, di non soffrire, e soprattutto di non farmi soffrire nemmeno per un attimo, davanti all'immagine della sua possibile sofferenza. Parlo di me, mentre non cesso di pensare a lui, e insieme al padre di Mario, ossia Parrasio. Provo a entrare nell'intrico dei rami familiari. Devo tutto a una serie di telefonate che dalla biblioteca comunale di Cascia mi portarono a una lontana, affabilissima cugina di secondo o terzo grado, Gaetana. Mi sono ripromesso di incontrarla. Si riuscirò mai? Il padre di mio padre, Vincenzo, era fratello della madre di Mario, Gaetanina, la quale, pur non essendo parente del proprio marito, appunto Parrasio, ne portava da nubile lo stesso cognome. Era quest'ultimo, però, e non lei, l'erede di quella straordinaria genia di eroi risorgimentali e antifascisti. Per me, come per mio padre, dunque, si trattava di un parente acquisito, e con ciò spengo subito ogni entusiasmo araldico. Bizzarra stirpe, in cui i nomi più usuali si univano a quelli risonanti di miti. Quattro fratelli, dunque, Getulio, Mario, Paride, Magdalena. L'unico che conobbi fu il terzo. Lo andai a trovare durante una delle mie lunghissime vacanze infantili. Mio padre, Casostrano, era venuto a trovarci, e ne approfittò per rendere la visita a quei suoi parenti umbri. Così partimmo in auto per arrivare a Cascia, dove ci accolse una specie di arcole baffuto, con due simpatici figli. Ma se cito questa remota spedizione, è anche perché l'associo alla portentosa scoperta dei porcini. Tornammo a notte fonda. Nel frattempo, però, in una casa amica e antica, che risuonava ancora di quei racconti atroci, per la prima volta in vita mia, io mangiai funghi, decine e decine di funghi. Col risultato che la barbarie nazista, l'affetto dei parenti sconosciuti, il sonno del ritorno, si mescolarono, per modellare quell'unico sapore di sepoltura, è insieme tenerezza, di carne pallida e votiva, di pianta carne, estratta dalla morbida terra, e arresa, muta, come fosse una salma. A diciassette anni, ricoverato per la frattura del bacino, vengo spedito, già sedato, in barella, verso la sala operatoria. La testa mi gira, sta per svenire, quando l'infermiere che sospinge il lettino decide che è venuto il momento di rincuorarmi. Su con la vita, mi fa, dopotutto lei è giovane. Quanti anni avrà? Sieno a 43. Se il risponso suonò terrificante, attribuirmi quasi il triplo della mia età effettiva, il peggio doveva ancora arrivare. Infatti, mentre le forze andavano scemando, lo udì aggiungere ancora nel leggere la mia cartella clinica. Magrelli, lei si chiama Magrelli, ma è il mio stesso cognome. Allora persi i sensi, ormai convinto ad avere accanto l'angelo della morte, l'angelo patronimico, il custode del nome. Sempre a proposito di presagi, sto visitando l'atelier di un amico pittore, autunno in campagna. Visite come queste le facevo da piccolo con mio padre, andando a trovare un artista oggi scomparso. Abitava in uno splendido studio ricavato all'interno delle mura aureliane, a Roma. Una spelonca immensa e buia, in cui spiccavano tele o ceramiche, altrettanto tenebrose, contorte. Sembrava di essere dentro un carcere del Magnasco, ma almeno nel mio cammino cuocevano castagne. Stavo dunque passeggiando fra bozzetti e dipinti, quando improvvisa ricevete una telefonata. uscì all'aperto, e nel fresco della sera mi giunse la comunicazione del medico curante. Un improvviso ricovero, e mio padre aveva perso la vista. L'onda degli ictus, avanzando, aveva finito per lambire il suo sistema visivo. L'occhio restava perfetto, ma ormai la trasmissione degli impulsi risultava interrotta. Così quella mia festa dello sguardo si trasformò in una commemorazione. Mentre andavo girando fra i quadri, mio padre aveva smesso di vedere. Si era tirato il lenzuolo sulla testa. Avrebbe proseguito solo, al buio. La metamorfosi conobbe tre fasi. La prima investì il suo movimento. Quel uomo atletico, camminatore instancabile e provetto ginnasta serale, con le sue arcaiche flessioni paramilitari, adesso incedeva come Sandro Bertini. Lui, che scherzandole imitava così bene l'andatura tremolante e robotica, a scatti, passettini, vibrazioni, si era completamente trasformato nel suo modello. Aveva iniziato a tentennare come il vecchio presidente. Tutto era cominciato alla caviglia sinistra, per diramarsi poi all'intero organismo. In ultimo, ricorrendo a un fastoso macchinario teatrale, mi vedo, mentre lo sospingo nel corridoio di casa, attaccato al girello, un'anchise a rotelle con un eneo ortopedico. E dire che ogni giorno passò davanti al luogo dove ebbe il suo primo danno motorio. Lui, il podista che traversava a piedi tutta la città, una mattina decise di prendere un autobus, un autobus che stava passando proprio in quell'istante. Rincorrerlo fu un gioco, ma appena salito su, ecco la scoperta. Il piede sinistro restava piegato, tremava. Insomma, non rispondeva più ai comandi. La generazione di mio padre era cresciuta sotto il segno di un medicinale chiamato vegetallumina. Ricordo slogature, vasti lividi, curati con quella pasta luccicante, unta e al contempo vagamente metallica, che non andava mai via. Mai via, mai via, se ne andava, la vegetallumina, un tubo, credo fosse, d'alluminio, con l'alluminio dentro, con l'alluminio fuori, con l'alluminio da tutte le parti. Allora, appena rientrato, pensò di aver urtato qualcosa inavvertitamente, e giù pomata, massaggi, ma niente. Il piede non voleva sentire ragioni, mentre da parte sua, lui non sentiva dolore. Visite e visite, finché si scoprì che il problema era esclusivamente neurologico. La muscolatura si conservava perfetta, ma il passaggio dei segnali era saltato. Che beffa! Avere un corpo immacolato, ma col sistema elettrico fuori gioco. Tanta fatica per tenersi in forma, e poi ti si fulmina la centralina. Finì incagliato, e lo stesso accadde alle sue parole. Come quando si toglie il tappo a un lavello, e l'acqua se ne va lasciando sul fondo qualche stoviglia. Il linguaggio era fuggito via, abbandonandolo con pochi residui inutilizzabili. Esclamazioni vecchie, aggiunture logiche, ma senza più niente da unire. Ne prendo una a casaccio. Cose varie, eccetera. Stavamo seduti a lungo tenendoci per mano. Io raccontavo e lui annuiva, sorridendo d'intesa, muovendo oculatamente sulla scacchiera aperta del racconto le pedine delle sue interiezioni. Approfittavo del suo stato. C'è forse un segreto senso di rivalsa nella sollecitudine di chi accudisce a un infermo? Come escluderlo? Certo è, e quei momenti mi tornano in mente con tale spenta dolcezza da farmi sperare in una qualche forma di reciprocità. In altri casi, però, tutto cambia, forse anche a causa dei medicinali. Questa grandile chimica, per quanto salvifica, si abbatte sul malato, facendo risuonare la tastiera dei sentimenti all'impazzata. È lui a parlare, o non piuttosto la sostanza che lo invade. Adesso mi chiama col nome di suo fratello e mi domanda con insistenza perché sono più giovane di lui, mentre invece dovrei essere il maggiore. L'ha forse dimenticato. Impastidito e offeso, chiede ragione di tale violazione. Nella sua voce c'è un tono risentito. Non se ne capacita. Ed ecco ricomparire la solita frase. Come sarebbe a dire? È accaduto il sorpasso, almeno crede. Sul circuito automobilistico della vecchiaia pensa che io abbia finito per doppiarlo. Perciò si sente ingiustamente spodestato, scavalcato da mio zio. È questo che temi. E lui insiste perché sei diventato più giovane di me. Di tutti i rimproveri che un figlio potrebbe aspettarsi, questo è davvero l'ultimo. Qualcosa di analogo, ma sull'asse del genere, del sesso, cioè per così dire orizzontalmente rispetto alla verticalità del processo cronologico, accadde tempo fa ad una mia amica, la cui figlia aveva appena avuto una bambina. Va a trovare la propria madre per comunicarle la felice notizia d'essere diventata a sua volta nonna. L'anziana la guarda in silenzio e poi le domanda inquisitoria nonna o nonno. Se mi accanisco sulla ricostruzione della sua decostruzione, non è ritengo per morbosità. Piuttosto mi pare che simili modifiche mi abbiano svelato qualcosa della sua personalità che prima non era mai emerso. Di solito è il contrario. La malattia accomuna gli individui, rendendoli indistinti, rappresentanti di una classe, di artrosici, Parkinson. Nel suo caso, invece, il male costituì una breccia, grazie alla quale penetrare nelle difese che per tutta la vita lo avevano protetto. Approfittare delle debolezze altrui potrà sembrare vile, ma io me ne servivo per avvicinarmi alla persona. L'unico motivo per cui intendevo sfruttare la situazione consisteva nell'intento, questo sì probabilmente sadico, di conoscerlo meglio. Tale desiderio, cioè, rappresentava la mia terapia, come se la malattia dell'infermo avesse potuto costituire la guarigione dell'infermiere. Ma no, vi ripeto. Il mio era soltanto il martelletto amico che batte sul ginocchio, la malattia come un piede di porco per scassinare i segreti di chi amiamo. La barra su cui fare leva per il rompere all'interno di un altro spazio, forzando i chiavistelli. Un'effrazione, dunque. Sarà vero? Oppure, così facendo, finisco per conoscere soltanto le sembianze del male e smarrisco il paziente. Fra le varie confessioni, o meglio deposizioni che raccolgo, quella di una domestica, mi racconta gli ultimi mesi del malato. Anche se ormai ridotto in carrozzella, era sempre agitato fuori di sé e bestemmiava e minacciava. Pare poi che di sera si facesse portare in giro per la casa a contare le stanze. Spinto da quella donna, vagava sospettoso e controllava, povero mastro don Gesualdo. Ma ogni volta, ogni volta ce ne mancava sempre una. Per questo urlava e urlava. Voleva sapere chi gliel'aveva rubata. Parti di spazio, camere rubate e a un ingegnere. Allora parlare dei nei? Non sembra, ma le macchie sulla pelle significano, significano un problema inesistente. La voglia sulla fronte di Gorbaciov, negli anni novanta, come una carta geografica, neografica, geopolitica. Queste macchie rappresentano altrettante offese, che esigono d'essere accettate. Sono forme di intromissione, di alterazione, di interferenza. Sono macchie estranee, anzi, sono le marche stesse delle straneità. Colonie extraterrestri, piovute dall'esterno, sul simulacro dell'individuo. Da qui un'ecigenza di carattere psicologico e percettivo. L'accettazione dei nei, di quelli propri e altrui. Accettazione della loro permanenza, dato che un neo non scompare. E costituisce piuttosto la garanzia dell'identità. Stephen, nell'Ulisse di Joyce, quel neo è l'ultimo ad andarsene. La reazione più semplice consisterebbe nel negarli. Oggi, nella vita quotidiana, con la chirurgia estetica. Ieri, nell'arte, con la semplice autocensura. È il motivo per cui Hegel non vuole che pittori e scultori si soffermino sui tagli, sulle rughe, sui pori, sui peli e sulle venuzze. La pelle, che lascia trasparire attraverso di sé la vita interna, è un coprimento per autoconservarsi all'esterno, un mezzo soltanto al servizio dell'indigenza naturale. L'estetica, però, esamina anche marmi policromi e immagini dipinte. Lo segnalo, poiché, doppia violazione, non solamente mio padre aveva un neo, ma questo neo era verde, fantastica apparizione agli occhi di un bambino. Sebbene cancellato dall'abitudine, di tanto in tanto quel tratto tornava a far baluginare il dubbio di una sua origine aliena, per lo meno rispetto alla mia natura, e con quanta disinvoltura portava quel sigillo marziano sul labbro superiore. Morale, avevo un padre venuto dallo spazio. Forse perciò, ai miei occhi, la vecchiaia lo spinse con tanta maggior forza verso la stratosfera. Viveva nei disegni delle case, in pieno boom edilizio, godeva nello studiare superfici, angoli, tetti, mentre si avvelenava la vita per cercare di realizzarli. Ecco la parola tabù, era assolutamente incapace di patroneggiare la realtà, ma, invece di prenderne atto, si accaniva a sfidarla. Non appena abbandonava il mondo della carta, il disordine faceva irruzione nella sua esistenza. L'habitat naturale era per lui costituito dalle grandi tavole di progettazione, dove poteva dare libero corso a un ricchissimo talento figurativo. In quella specie di dimensione virtuale, e unicamente lì, viveva veramente la sua vita. Un padre barricato nei prospetti architettonici, ma condannato ad essere continuamente stanato dal proprio nido. E pensare che per uno scatto d'ira abbandonò l'università, ossia l'unico luogo dove avrebbe potuto rifugiarsi, e dove più tardi io stesso mi sono rifugiato. Si trasformò in direttore dei lavori circondato da geometri manovali, impiegati del comune, in una ragnatela di rapporti umani per i quali si rivelava sempre più tragicamente inadatto. Lui, che era capace di litigare anche con il suo confessore, un suicidio. Ve lo rivedo ancora, in piena estate, vagare per un cantiere pietroso, in riva al mare, solo. Lo avevo lasciato in mezzo al nulla, dopo avergli dato un passaggio. Avrà avuto 55 anni, 56, e mentre ripartivo in macchina lo vedevo allontanarsi, e mentre me ne andavo facendo retromarcia continuavo a guardarlo di spalle. Guardavamo nella stessa direzione, lui dritto dinanzi a sé, io risucchiato indietro. Ma chi andava avanti davvero? Mio padre, che camminava senza vedermi, o io che mi allontanavo con lo sguardo posato su di lui. O morte che non muori. La mia vita è congedo ed elettrolisi da me. Ho letto un articolo intitolato Bach trova un equilibrio soltanto nella musica. Pare che nella biografia del compositore tutto fosse motivo di conflitto, di lamento, di rabbia, di noia. Altro che buon marito e premuroso padre di famiglia. Altro che serafico artigiano. Troppa collera, nessun autocontrollo. Non lo troviamo mai sorridente o disteso. Ovunque malumore, rigidezza, esasperazione. Vendicativo ed attacca briga, soprattutto quando si sentiva interrotto o contrariato nei suoi pensieri, cioè quasi sempre. Solo così si spiega il suo ricorso ossessivo, monomaniacale all'arte. L'armonia interiore contro la cacofonia del reale. Una questione di sopravvivenza. La sua musica era più saggia di lui. Questa è la ragione per cui, nell'opera di Bach, non c'è traccia di ansia. Il sentimento più frequente appare la gioia. La gioia di comporre, ovvero di trovarsi al riparo delle note, dietro una barricata musicale in grado di tenere indietro il mondo. Fatte le debite distinzioni, direi dunque che mio padre soffriva per la cacofonia del reale, dalla quale fuggiva disegnando. L'inferno cominciava nel momento in cui abbandonava la matita. Ora capisco l'ostinazione con cui, anche dopo aver perso l'uso della vista, rifiutava di liberarsi del suo tavolo da ingegnere. Tutto ruotava su quell'esile appiglio, l'ultima tavola di un naufragio, alla quale si era aggrappato per trovare salvezza. Piccola terricciola, Epofi, Alessandro Guidi Mia nonna, Sigarillo, dicevo, era scesa dai monti della Ciociaria. Io non l'amavo, eppure questa donna era il segnavia dell'origine. Stava a indicare il luogo da cui proveniva mio padre. Il Lazio Meridionale, che ignoravo e che continuo a conoscere così poco. Cosa fare con Pofi, per esempio, il suo paesetto natale? Non ci sono mai stato, ho solo qualche immagine che lui schizzò a matita da giovane. Stradine assolate, cortili, un asinello, i suoi disegni. Il visitatore che raggiunge l'altura su cui sorge il centro abitato si rende subito conto dell'importanza che la rocca medievale di Pofi aveva nel passato. L'aspetto di fortezza veniva enfatizzato dal colore cupo delle alte torri e dei fabbricati, realizzati con il basalto delle colate laviche prodotte da un apparato vulcanico attivo tra 430 e 120.000 anni fa, di cui è rimasta la morfologia e i crateri. Il centro storico è pianta ellittica, con asse maggiore nord-sud-ovest, compreso tra la bella porta del Melangolo e la porta dell'Ulivo. Sorto nell'undicesimo secolo, il paese conserva un nucleo storico interessante e una piazza su cui svetta la Torre Nova, la pianta quadrangolare. Non lontano dal centro abitato si possono osservare resti del mulino a vento, di una cisterna e di un ponte romano. Infine, va ricordato che la chiesa di Sant'Antonino Martire, monumento nazionale in stile romanico dell'undicesimo secolo, sulla parete interna dell'ingresso presenta un affresco di notevole interesse, raffigurante il giudizio universale. Un bel compendio, non c'è che dire. Eruzioni e apocatastasi. Prima la lava, poi la reintegrazione dei corpi. L'importante è attenersi allo stretto necessario. Come patria elettiva, già cominciava a piacermi. Emigrati pelasgi provenienti dall'Asia, sbarcati sulle coste calabre circa sessanta secoli indietro, si spinsero fino alla Marsica. Con a capo osco ernico, di lì arrivarono su quella parte dei preapennini, che dal nome del duce o da quello dato dai Marsi ai Sassi, si chiamò Catena degli Ernici. Durante le invasioni saracene, il territorio di Veroli, come tutta la campagna, subì devastazioni e incendi, e fu reso quasi deserto. La popolazione in grado di farlo si ritirò dentro la cerchia delle mura urbane. Nel X secolo il territorio verolano tornò a popolarsi, e nella parte collinosa, specialmente verso i confini, furono eretti casali fortificati, o corti o castelli, a difesa dei coloni. Tra essi si annoverò quello di Pofi. Leggendo lo studio di Vincenzo Celletti, il nome di mio nonno, il cognome di mia nonna, del 1957, l'anno della mia nascita, trovo un sonetto che il cavaliere marino avrebbe dedicato proprio a questa cittadina. Sarà vero. Non lungi assai dagli ernici confini, serge fra gli altri colli un colle ameno, e nei suoi lati e spaziosi fini, placido scorre il torbido taleno. D'ambre suavi e liquidi rubini, fecondò bacco il pensile terreno, coguagliando i cretensi e i folanghini, ne gode il ricco, il comodo, l'egeno. Pofi, parlo di te. Il cel, secondo, sortisti con stupor d'arte e natura. Neopra di numi sei, e non del mondo. Cibelti di è proporzionata altura. Giove fecondità, nido giocondo. Saturno fu, che edificò tue mura. Troppa grazia, addirittura Saturno. Come se non bastasse, il celletti sostiene che, secondo la tradizione locale, la parola pofi sarebbe la corruzione di Proci, i leggendari pretendenti alla mano di Penelope, i quali, venuti in Italia, vi si stabilirono, ma non erano stati tutti uccisi da Ulisse. Secondo ulteriori fonti, alcune etimologie del nome, attestato per la prima volta in un codice pergamenaceo dell'archivio di Monte Cassino, datato al 1919, concorrerebbero a nobilitare le origini del paese. Così, diverse testimonianze lo fanno derivare da polis, città, e ofis, serpente, ipotizzando la presenza di una colonia greca nel territorio, in realtà finora non documentata. Secondo altre, pofi deriverebbe invece dell'espressione ancora greca, oi apofios, quelli del serpente, in relazione al culto del dio Esculapio. La congettura troverebbe conferma nello stemma di pofi, costituito da una serpe avvolta intorno a una quercia. Ho letto gli statuta, pufa, che si diffondono sulla terra pofarum e sulle terra pofanorum, nonché le vicissitudini della corte di pofi, dall'alto medioevo ai giorni nostri, il protagonista del romanzo di Antonio Pizzuto. Si riparano bombole a nome pofi, ma non c'entra niente. Eppure, continuo a non essere mai stato nel paese natale di mio padre. Nel corso di un suo lungo viaggio in Italia, Picasso dipinge 12 ciocciare cubiste. Nel 1942, Mussolini visita i pozzi di petrolio di Ripi, a 5 chilometri da Poficio Salrac. Su internet, tuttavia, ho scoperto l'esistenza del suo prestigioso museo preistorico. Nelle sale è presentato lo scenario in cui uomini e animali ora estinti hanno effettuato la loro comparsa. Il museo mantiene rapporti di collaborazione anche con il museo preistorico Luigi Pignorini di Roma e con istituzioni internazionali. Gruppi di studiosi francesi, georgiani e spagnoli hanno effettuato ricerche studi nell'ambito di un piano di collaborazione internazionale. Dunque, mio padre a pofi non è solo. Ancora, tra i reperti più rilevanti, quelli dell'uomo di Ceprano, 800.000 anni, che costituisce una delle testimonianze più antiche della presenza umana in Europa. Dai giacimenti di Ceprano-Campogrande, Arce, Anagni, Colle Marino, Castro dei Volsci, provengono manufatti in pietra e rare faune che confermano la presenza dell'uomo nell'Italia centrale tra un milione e 600.000 anni fa. Segue quindi la fase successiva, caratterizzata dalla presenza di manufatti litici più elaborati, in cui assume particolare significato tipologico e cronologico l'amigdala. Per quasi 15 anni, tonsille. Bastava niente e le sentivo gonfiarsi, tra febbri e tosse. Così di seguito fino alla mia piena maturità, secondo un quadro eziologico che continuava ad apparire indiscutibilmente puberale. Heilbeck. Ma la scoperta definitiva avviene in Francia. Quando ammalato, apprendo che le chiamano amigdale. Come pietre scheggiate dalle popolazioni primitive, come punte di frecce, come reperti del cenozoico, questi due pendenti continuano a far bella mostra di sé nella bacheca della mia gola. Prosegue. Nei siti in cui si trovano le testimonianze, Anagni, Fontana Ranuccio, Ceprano Campogrande e Colle Avarone, Isoletta San Giovanni in carico, La De Magni e Ponte Corvo, Pignataro, Interamma, sono anche frequenti resti fossili di animali, Elefanti, buoi, cervi, cavalli, ipopotami, rinoceronti, che testimoniano le variazioni del paesaggio, degli ambienti e del clima col trascorrere degli anni. Che meraviglia questi branchi fantasma, queste presenze animali che aleggiano nel silenzio delle sale, dopo aver infestato l'intera ciociaria, la giungla vergine. Poi finalmente arriva il passo chiave. Qui sono esposti soprattutto i reperti preistorici provenienti dal territorio di Pofi, le faune, i manufatti e i resti umani di cavapompi. Uomo di Pofi, datato tra 400.000 e 300.000 anni. Acqua, fuochino, fuoco. Eccolo, l'uomo di Pofi. Era mio padre. È lui che sto cercando, mentre mi limito a studiare da lontano la sua culla preistorica. È nella notte della mia infanzia, tra 400.000 e 300.000 anni fa, che si annida il mio diretto progenitore, con armi, vasellami, ossa, rituali. L'uomo di Pofi, ossia il pofantropo. Ho visitato Anagni e la sua smagliante cattedrale romanica. Ho visitato una perfetta stube tirolese al centro di Cervaro, gestita pare da una sorella dell'ex governatore della Carinzia, Jörg Haider. Ho visitato l'abbazia di Monte Cassino. Ho visitato la pizzeria Cactus, nella piana di Villa Latina. Ho visitato quella piccola acqua fondata da cui proviene la famiglia di un amico scomparso, lo scrittore francese Bernard Simeon. Ho visto, tempo fa, la stazione di Frosinone presidiata dalle truppe del nostro esercito, allo scopo di individuare la sorella di Bin Laden, ivi effettivamente residente. Ma Pofi ancora no. Resta lontana, appollaiata fra i monti, come nelle catene abitate dalle più remote tribù Pastun. Italia, Italia polverosa, arcaica. Che ne sappiamo di te? La lontananza da mio padre, insomma, più che genealogica, mi appare geologica. Che centro io, con quell'uomo depresso, dove furente, Saturno pofantropico, eppure ironico, colto, curioso e spiritoso, affettuoso fino alla commozione, tenerissimo, dovrò pur dirlo. È proprio come se il mio amore per lui avesse a che fare con un'origine remota, con una differenza insanabile. Ricordo due strani versi di Guillaume Apollinaire. Ora, questi pensieri morti da millenni, avevano il gusto insipido dei grandi mammut ghiacciati. Ebbene, per avvicinarmi al senso preistorico delle mie radici, ho elaborato un cervellotico esercizio di scrittura, o meglio di riscrittura, forse, chissà, soltanto a fini propiziatori. Partito da due pagine di un semplice manuale di paleontografia, ho cercato di adattarle alla mia vita. Ecco l'originale, a firma di Yvette Geyrard Valli. La via è stata lunga, 6.000 chilometri in slitta, da El Kusk a Berezovka, ma il 14 settembre, attraverso i larici, appare il cranio. Il tronco e gli arti sono ancora sepolti nella terra e nel ghiaccio. È un'enorme massa congelata, impossibile da si sotterrare. Si impone una soluzione, riscaldare il suolo e far fondere il ghiaccio. Tutto intorno viene costruita una capanna di legno, simile a una sauna riscaldata da due fornelli. A poco a poco, in un fetore spaventoso, le carni si ammorbidiscono, la pelle si stacca e vi si riappaiono. Nello stomaco serpillo, ranuncoli e genziane, il suo ultimo pasto. E nella terra masse di peli. Per sei settimane i tre scienziati, inviati in Siberia dall'Accademia delle scienze di Pietroburgo, sezionano e tagliano la carcassa. Soltanto il 10 ottobre il lavoro può dirsi finito. I pezzi più grossi sono stati riposti in sacche di pelle. Mille chili di ossa, carne e visceri. È il 15 ottobre 1901, quando Herz, Sebastianov e Pfizzenmayer abbandonano Kolimsk, trasportando con dieci slitte trainate da cavalli il primo esemplare scoperto in tempi moderni. Ed ecco il mio adattamento. La proposta di lettura consiste nel sostituire all'immagine del mammut quella del bambino, con tutto ciò che ne consegue. Questo perché, come ho detto, mi interessa l'aspetto geologico del passato, anzi, per meglio dire, la geologia della biografia. È una frase che rende tutto ciò in maniera mirabile, difficile da tradurre. Io la intendo così. Più noi proviamo a guardarla da vicino, più lei ci osserva da lontano. Il suo autore, Karl Krauss, si riferiva alla parola e alla sua potenza estragnante. A me, invece, in un primo momento è venuto spontaneo applicarla all'impressione che provoca in noi lo sguardo di una bestia. Mi sbagliavo. Si trattava dell'infanzia. Da qui la mia variazione fossile. La via è stata lunga, 47 anni a piedi, da casa a casa. Ma il 4 giugno, spuntando attraverso l'oblio, compare il cranio. Il tronco e gli arti sono ancora sepolti nei sogni e nei terrori. È un'enorme massa congelata, impossibile da dissotterrare. Si impone una soluzione. Rescaldare il suolo e far fondere il ghiaccio. Tutti intorno viene costruita una capanna di fogli, penne e matite, simile a una fornace alimentata da fascine diversi. A poco a poco, in un fetore spaventoso, le carni si ammorbidiscono, la pelle si stacca. I visceri appaiono. Nello stomaco. Ciocorì, zabaione e biscotti gentilini. Il suo ultimo pasto. E nella terra, masse di peli. Per 42 settimane, i scienziati, inviati a Roma dall'Accademia dei Ricordi di Pofi, sezionano e tagliano la carcassa. Soltanto il 10 di giugno il lavoro può dirsi finito. I pezzi più grossi sono stati riposti in sacchi di pelle. 90 chili di ossa, carne e visceri. È il 16 giugno 1988, quando Magrelli abbandona le terre dell'infanzia, trasportando, con due libri trainati da cavalli, il primo esemplare scoperto in tempi moderni. Poi, finalmente, sono andato a Pofi, Pofi la nera. Pofi fatta di ferro, nera sull'orizzonte, fatta di pietre ruvide e scure, come di pepe o polvere di calamita. Sotto una cappa d'afa bacinante e bianca, accarezzo le mura di un gigantesco palazzo abbandonato. Da sopra un'architrave mi minaccia una feroce maschera apotropaica, scolpita pare per tenere lontani gli spiriti del male. Sarà questa la casa della paura, di cui mi parlavano tanto? Sono sotto uno scoglio di lava, una specie di cava, un cubo buio, dove purtroppo i discendenti dei grandi fondatori hanno svolto fino alla fine, punto per punto, il loro compito di oculata distruzione. Ecco, dal Lazio in giù, il flagello edilizio si è fatto carne, archetti di mattoni da pizzerie alla diavola e infissi luccicanti. Se oggi Cristo tornasse in questa Italia, lo inchioderebbero a una croce di alluminio anodizzato. Eppure anche così, sconciato e fatto a pezzi, il cadavere di Pofi, la ferrea, resta dritto come legato al palo della tortura. Pofi la morta. Pofi sotto un cielo arroventato e immobile. Pofi polo magnetico. Sono le due di pomeriggio di un 24 maggio, ma potrebbe essere ferragosto. Il direttore del museo preistorico, Italo Biddittu, mi accoglie gentilmente alla stazione. Giriamo per il paese una mezz'ora senza praticamente incontrare anima viva. Non so se sia peggio imbattersi nelle case abbandonate o in quelle riattate secondo la lebbera contemporanea. E nessuno che vegli su questo tesoro severo, nessuno che lo protegga da questo pandemonio di individui che lo costruiscono e arredano senza criterio, senza sapienza, senza una lingua comune, senza un legame umano. La deturpazione del nostro centro-sud passa dai portoncini plastificati, dalle insegne, dai lastricati dai citofoni. Altrettante ferite inferte a freddo sul corpo di un bellissimo paese. Bellissimi cubi basaltici ricoperti da intonaci. Basta. Corriamo alla stazione. Corro verso i binari. Fermo il treno già in partenza e abbraccio Biddittu. Parto da Pofi con un peso amaro. Molto istruttiva la corrispondenza di Robert Louis Stevenson con il padre, che teme e ama, e con il quale litiga di continuo. Mi ha scritto una lettera affettuosissima. Potrebbe annunciarmi tempi migliori, ma per ora è come fare un picnic sul vulcano. Non basta. Le discussioni dovevano essere furibonde. Mio padre e io riuscivamo a bruciare un anno e mezz'ora. Oppure è da lunedì scorso che a casa non si muove foglia. Ma naturalmente lunedì ha fatto il pieno per una vita intera. Niente può cancellare ciò che è stato detto. Niente per me sarà più come prima. Su questi presupposti, logico che il romanziere giunga fino a definire il genitore come lo stesso mostro di sua invenzione. Con grande dispiacere, stamattina mio padre mi ha propinato un'abbondante dose di Hyde. Ha cominciato a colazione con il suo solito. Sono stato molto duro con lui e non gli ho più rivolto la parola finché non si è calmato. Con una notte insonne alle spalle, quella dose di Hyde mi ha messo definitivamente a terra. Finora Jekyll aveva avuto la meglio. Vorrei arrivare in fondo a questo elemento mostruoso, teratomorfo, liquidarlo una volta per tutte e passare oltre. Prendiamo la sua posizione religiosa. Lui, bestemmiatore praticante, si convertì al movimento dei neocatecumenali. A me sembravano cristiani vicini al luteranesimo, seri e determinati. Leggevano il salterio, studiavano la Bibbia, confessavano ai loro fratelli i propri peccati. Ne rispettavo le scelte, anche se sorridevo per l'evidente narcisismo con cui mio padre vi aderiva. Era un oratore estremamente brillante. E si faceva bello di tale qualità. Ma come non accettare e perdonare un atteggiamento così scopertamente infantile. Pure la vicinanza con tanti missionari laici non aveva affatto scalfito in lui il blocco granitico d'odio su cui poggiava il suo giudizio circa il genere umano. Forse soltanto in Arthur Schopenhauer ho trovato massime amare come quelle che formulava appena uscito di chiesa. La maggior parte degli uomini sono come i frutti dell'ippocastano, hanno l'aspetto delle castagne vere, ma non sono commestibili. La gente comune ha l'aspetto di esseri umani. Non ho mai visto qualcosa di tanto simile all'uomo. Tutte le volte che sono stato fra esseri umani sono tornato meno uomo. Quanto più guardo gli uomini, tanto meno mi piacciono. Se soltanto potessi dire la stessa cosa delle donne, tutto sarebbe a posto. Finita questa prima cinquantina di capitoli, mi piacerebbe insomma, mi piacerebbe insomma raccontare quanto di delicato e caldo nascondeva un carattere così ulcerato, completare in modo equo il suo ritratto. Il mucchio di biglietti e bigliettini dove ho scritto ai miei appunti per quasi dieci anni, sembra una cesta piena di pulcini. Che pigolio sarebbe quel paniere in cui ho raccolto e conservato tanti foglietti. Sapevo che ogni voce era una gola che domandava cibo. Sapevo che ogni richiamo era come un filo, un bandolo canoro di una infinita matassa di storie. Punto primo, i disegni. Anche al di fuori del suo lavoro di ingegnere, ogni tanto si divertiva a schizzare ritratti di familiari, creature fantastiche, animali, cavalli o guerrieri. Su tutti quanti questi documenti spicca una toccante odissea portatile, o meglio una sequenza di otto tavole dedicate alla vicenda di Polifemo. Le ho consumate a forza di vederle. E che ricchezza di ombreggiature, anche se a dire il vero si andava giù pesante, a sfumare, a sbaffare con il pollice sulla grafite. Tendeva assai al pompier. Un talento, indubbiamente, benché con un sacolo di ritardo. O magari in anticipo, perché no? Finora non ci avevo mai pensato, eppure ne sarebbe potuto venire fuori un magnifico artista di graphic novel, alla Frank Frazetta. Donne sensuali, di un immaginario da telefoni bianchi, a riprova di come l'eros rasti cristallizzato in noi, fissato per sempre nella sua prima devastante irruzione. Ricordo ancora quando alle scuole medie, sfogliando di nascosto in un'edicola un giornaletto pornografico, scoprì la peluria del pube femminile. Ebbe un vero e proprio sussulto cardiaco, un cataclisma. Chi si nascondeva in mezzo a quelle candidissime cosce? Che ci faceva la barba di un frate cappuccino fra tutto quell'inebriante biancore? Vertigine, voragine. Perché, strazianti, le curve delle gambe giungevano, asintotiche, lambendo l'infinito, dentro un cespuglio, nel rovetto ardente. 15 novembre 2007. Telefono in sogno alla vecchia casa dei miei genitori. Mi risponde mio padre, morto da tre anni. Stupore, scomento. Abitavamo a Via delle Fornaci, in un palazzo fascista, dall'immenso portone, accanto al quale chissà perché era stata posta da tempo immemorabile una grande bacheca di ex vuoto sotto vetro. Per questo il vasto androne era tutto un viavai di turisti. Lo stabile sorgeva proprio accanto alla basilica vaticana, che entravano facendosi il segno della croce e si inginocchiavano davanti all'ascensore, certo in attesa dell'elevazione. Da qui una certa vanagloria infantile. Credevo forse ad essere Filippo II all'Escoriale. Poi un mese fa un amico mi segnala l'esistenza di uno strano edificio, sempre in Via delle Fornaci, detto la Casa delle Rondini. In effetti è piuttosto distante dalla mia vecchia abitazione. Bisogna percorrere la strada in salita verso l'Aurelia Antica, fin dove, mi accorgo, non sono mai stato in vita mia. C'è addirittura una biforcazione che ignoravo. E poi eccola, al civico 251, immersa nel verde una bella palazzina primi novecento con una particolarità. Sotto il suo cornicione gira infatti una scritta alta più di mezzo metro, che recita «Le Rondini rallegrano il tetto e i bimbi la casa. Venite, Rondini e bimbi, siate qui benvenuti. Risuoni sempre qui il vostro lieto grido». Altro che Rondini, altro che mondo aereo e luminoso dell'infanzia. A Via delle Fornaci mio padre si consumava di rancore, e ogni sera ostinato, tenace, andava in cerca delle stanze rubate. L'unica cosa alata era il pensiero di sottrarsi alla vita, pensiero di cardellino, pensiero da ripellino, volare via da me stesso, come un uccello migratore, da questo roveto, da questo malessere, da questo perenne dolore. In quella casa vissi poco più di vent'anni e la porto stampata nel cuore. Era fresca, alta, soleggiata, pulita. Per questo, quanto accadde durante una remota notte d'agosto, mi lasciò sbalordito. Dovevo aver mangiato troppo a cena, ragion per cui verso le tre del mattino, mi trovai in cucina, a bere direttamente dal rubinetto. Mentre ingoiavo grandi sorsate d'acqua gelida, con la coda dell'occhio guardavo in basso e mi dicevo, strano, il nostro pavimento è sempre stato chiaro. Come mai è diventato tutto nero? In sonnolito accaldato, andavo formulando la domanda in maniera svagata, del tutto indifferente alla risposta. Ma la risposta venne poco dopo, da sé. Superato lo stordimento della luce, che li doveva avere ipnotizzati, centinaia di scarafaggi fuggirono atterriti sotto i miei piedi nudi, svelando finalmente l'effettivo candore delle mattonelle. Galleggiavo letteralmente sopra un mare di blatte, e cominciai a gridare, percorso da un rebrezzo irrefrenabile. Quando arrivò mio padre, era ormai troppo tardi. Le brulicanti truppe avevano battuto in ritirata, svuotando la cucina come d'incanto. Il giorno dopo, tuttavia, ebbe luogo il gran consiglio. Pianificammo un'azione congiunta per sterminare gli intrusi, ovvero il luccicante mantello notturno animale. Ci accordammo per mettere la sveglia alle tre esatte. E così avvenne. Nel buio più completo, indossate enormi scarpe, ci avvicinammo lentamente alla cucina, armati entrambi di scope. A un gesto convenuto accendemmo la lampada. E cosa non apparve? Praticamente un'unica distesa di dorsi cheratinici, immobili, nerissimi, pietrificati dalla luce. Fu un attimo, e la strage ebbe inizio. Prima che quella schiera cominciasse a ondeggiare, centinaia di esseri cadevano scricchiolando sotto i colpi fra le urla, con cui inutilmente cercavamo, schifati, di tenere distante il raccapriccio. Tutto finì con un cumulo di spoglie, un sacco croccanti di orrori ridicoli. Sedemmo stanchi e felici, che alveggiava. La regina era salva, i proci uccisi, e il piccolo telemaco poteva finalmente ritornare a dormire. Poi venne l'uomo della disinfestazione e terminò il lavoro. Saranno state le strutture fatiscenti, forse, a nascondere, ad allevare tante creature delle tenebre. Questo nel cupo interno dell'edificio. Ma che pianure accecanti si aprivano sui tetti. È stato proprio lì, sul vasto altipiano deserto delle terrazze condominali, che ho imparato ad andare in bicicletta, fra i panni stesi, spinto da mio padre, ai confini del cielo. La casa a vita venne lasciata pochi mesi dopo la morte di Giacinto, svuotata. Trovava quella specie di volutà che c'è quando, riordinando, si distrugge, nel vedere il vuoto prendere il posto degli oggetti. L'appartamento nudo svelava le sue carie, specie negli infissi, corrosi da quasi ottant'anni di ininterrotta occupazione. Certo è che le ultime cose in cui mi imbattei furono crani e clisteri. Teschi giravano per la casa. Dopo gli studi di medicina, qualcuno doveva aver dimenticato di mettere via i materiali d'esame. Libri, vecchie carte giallastre che cedevano sotto le dita, ma anche vari preparati anatomici, tra i quali appunto veri teschi e vere calotte craniche. Era ancora lontano l'avvento della plastica, tanto rassicurante nel presentare la forma pura senza contenuto. Allora le due cose andavano a braccetto, e a braccetto d'ossa, perché è difficile sostenere chi, ad esempio, la fronte sia il messaggio della sua curva. Chi tiene in mano l'architettura dura e spugnosa dell'arco occipitale, sorta di leggerissima lega, a metà strada tra il ciocorì e l'opus incertum murario, capisce subito che la sua linea coincide esattamente con il senso. La forma è il contenuto che affiora in superficie. Lezioni di estetica, insomma, insieme a un continuo interrogarsi sul dentro e sul fuori, sul prima e sul dopo della carne nel corpo, ossia sul dentro prima e fuori dopo, da cui sorge l'idea dell'aldilà. La parola interiore, e dunque, se nelle conchiglie si sente e cheggiare il mare, cose risuonerà nel cranio. Un fiume? Da queste meditabonde osservazioni risultava un forte sentimento dello sfratto. L'abitante del palazzo era scomparso, cacciato via, lasciando spazi vuoti, vani o ormai privi di ogni arredamento. Affittasi, e proiettivamente, obbligatoriamente, esser costretti a prendere in considerazione l'eventualità di finire su pellettile. Un'avvenire da fermacarte. Una notte, dopo una cena da amici, trovai l'auto bucata. Dato che il mese prima mi avevano rubato la ruota di scorta, avevo pensato bene, una volta acquistatane un'altra, di lasciarla a casa. Rientrai con un passaggio, ma strada facendo pensai che dover affrontare quel lavoro la mattina seguente, fra la distanza e il traffico, sarebbe stato un inferno. Così ebbi l'idea di caricare la nuova ruota sulla bicicletta e mi avviai. Non avevo fatto nemmeno cento metri che l'idiozia della scelta si trasformò in disastro. Ma a grado ganci e traini, il peso della gomma mi trascinò per terra. Niente di grave, ma ormai mezzo ubriaco, stanco, scorato, mi sentì trasformato in quell'esile biciclettina, schiacciata da un carico più grande di lei. Fu in quel momento che scorsi due fari venirmi incontro. Li vidi fermarsi, apparve mio padre, e fece ciò che qualunque altro buon padre avrebbe fatto, ossia mi accompagnò in auto a riparare il veicolo. Non ho avuto mai più, tanto chiaro e visibile, il senso dell'espressione Deus ex machina. Sia chiaro. Per quanto stia cercando di dedicare questa parte del libro alle molte virtù di mio padre, non è facile reprimere un moto di disgusto per il suo sciagurato rapporto con la vita pratica e per tutti i gravissimi guai che esso mi procurò. Imprevidente, privo di qualsiasi capacità di anticipare, di valutare, di investire, fu solo grazie alle favorevoli congiunture astrali che non finì sotto i ponti insieme a noi. D'altronde, anche con tutta la buona volontà, quale ingegnere sarebbe mai riuscito a fallire in pieno boom economico? Lui ce la mise tutta, ci andò vicino, e senza coltivare nemmeno un vizio. Non fumava, si è visto, non giocava ai cavalli, non beveva, non scommetteva, non aveva amanti. Eppure, diffidente verso tutti, era capace di consegnarsi mani e piedi ai peggiori sciacalli. Che tremendo miscuglio di cecità e sospetto! Proprio come un raddomante, lui scovava carogne ovunque andasse. Si faceva convincere a comprare azioni minerarie del Perù, si nidava a oscuri commercialisti fino nel cuore dell'agropontino. Affittò la sua unica proprietà a un gruppo di cinesi che coltivavano bonsai dentro i gabinetti. Infine, quasi colpito dalla grazia, acquistò una cartiera vicino a Casal di Principe. Che antesignano del caos! Questo mio povero padre Pinocchio, da sempre sotto braccio con il gatto e la volpe, aveva un vero fiuto per le fregature. Gli bastava staccare la matita dal foglio e il circuito saltava. Stanato dal suo unico riparo, la realtà si avventava su di lui, per apparirgli sotto forma di frode. Dicono che San Dismas e San Matteo, San Nicola e Santo Dilone, siano i patroni dei ladri. Ma il patrono dei derubati è uno soltanto, Sant'Antonio, e per di più, a morto, dovette subire il furto della propria mandibola. Così mio padre fu preda di lestofanti d'ogni sorta, a molti dei quali mi rivolsi anch'io, inizialmente convinto della bontà delle sue scelte. Solo alla fine scoprì, atterrito a incredulo, la sua irresistibile attrazione per gli imbroglioni. Tanta inettitudine, infine, mi parve sovrana, senza più veli, nel suo pieno fulgore. Di più, abbagliante e postuma, sì, perché oltre a fare tutto male, seppe guastare il resto anche dopo morto. Lasciò dietro di sé una scia di dissesti, artigiani impostori, fiduciari corrotti, colleghi truffaldini. Fu lui a comperarmi casa, e lo ringrazio ancora, ma volle a tutti i costi, cioè a zero costi, ristrutturarla personalmente. Perché le mie persiane non si chiudono? Perché la canna fumaria ha rischiato di uccidermi insieme ai miei cari nel sonno? Perché le tubature di tutti i lavandini sono in salita? Perché la mia cassetta della posta ha un vetro scuro, che tutti i giorni dell'anno mi obbliga ad aprire lo sportello per scrutare l'interno? Tutti i giorni dell'anno, aprendo il vernacolo, girando quella chiave, penso a te, e soprattutto a me. Testimone, superstite. Certo, a suo modo, era anche lui uno scampato. Per sfuggire ai nazisti, mi confermò d'essersi finto dottore, grazie a suo fratello studente di medicina. Durante qualche mese aveva frequentato i corsi, fino al mattino in cui dovette seguire un intervento su una donna artritica, le dita, mani e piedi, frondose come rami. Finì che la potarono tutta, come fosse una siepe. Lui svenne, fu trascinato via a braccia, e dire che era appena sfuggito a una retata. Infatti, quando i tedeschi entrarono nell'ospedale di Santo Spirito in Sassia, a Roma, lo trovarono in visita ai malati, mescolato ai veri iscritti in medicina. Per effettuare l'ispezione, i soldati chiesero a tutti i presenti di mostrare i loro libretti universitari, ma il suo, da studente di ingegneria, aveva un colore diverso dagli altri. Discrive queste pagine, pertanto, deve la vita a quel provvidenziale, dal tonico sergente deputato ai controlli. Divenne ingegnere quando sarebbe stato un ottimo architetto, o meglio ancora uno storico dell'architettura. Come dimenticare l'amore e la passione con cui, durante gli anni di liceo, mi conduceva ogni domenica mattina a visitare una diversa chiesa del Borromini. Quei marmiri curvi, quelle superfici piegate, come in un sogno topologico, sono quanto di più vicino alla bellezza abbia mai sentito. Sostammo ore, davanti a San Carlino, a Santivo, alla Sapienza, ma la vera scoperta per me fu Santa Maria dei Sette Dolori, così scabra e spoglia, una semplice veste di mattoni, stesa ad asciugare al vento. A me raccontava l'ipocondria di quell'artista, depresso, umorale e malinconico, lo squallido suicidio con due giorni di agonia, nel cuore di un secolo sporco e maleodorante. Sarà stato il solito luogo comune romantico, ma immaginare tanto dolore che si tremuta in forma fece di questo genio la stella polare delle nostre discussioni. Una pulsione trattenuta a stento, mi sembra già di avvertire la definizione che andrebbe retonda là della bellezza in Nadia, paragolandola a un treno che sobbalzi incessantemente nella Guerre de Lyon, senza però ripartire. A scatti, a strappi, a strattoni, la bellezza sarà convulsa o non sarà? Ecco che cosa preme dietro le pieghe delle facciate borrominiane, mi spiegava mio padre. La sua vita mi diede solo uno schiaffo. Era d'estate, nella campagna che tanto mi piaceva, in una frazione nascosta in mezzo agli appennini. Una vita brada, con un gruppo di coetanei, sempre a girare in bicicletta, giocare a pallone o passeggiare fra i boschi. Un giorno, dopo ore di cammino nel solleone, trovammo un'enorme vasca per dissetare le vacche. Vi immergemmo le braccia rinfrescati, salvo scoprire, nel tirarle fuori, che erano diventate tutte nere, completamente ricoperte di sanguisughe. Illimitato schifo! Ero piuttosto piccolo, e felice per una delle sue rare e brevi apparizioni. Fu allora che decisi, chissà perché, ossia si sa perché, di nascondermi. All'inizio per gioco, ma poi col passare del tempo per paura, poiché l'allarme si andava spargendo, con le ricerche e l'arrivo della polizia. Quando venne scoperto era già sera, e lo vidi scagliarsi su di me. Non posso immaginare la paura che avrà avuto. Forse anch'io avrei fatto lo stesso. Colpire l'oggetto d'amore per punirlo d'averci lasciato. Colpire l'oggetto d'amore per ringraziarlo d'essere tornato. Questo fatto me ne ricorda un altro, analogo e contrario. A Roma, nel suo studio, conservava una grande pistola di ceramica, di modello antiquato, riposta in un astuccio di cuoio nero. Come fosse un tesoro di famiglia, si era raccomandato di non toccarla. E come nelle favole, un bel giorno, presi una sedia e ci salì su per vederla, per contemplare in pace quel portento. Naturalmente accadde qualche imprevisto, e il pistolone, kitsch a dire poco, mi scivolò di mano e finì in pezzi. Ero terrorizzato dalle possibili conseguenze di quel gesto. Invece, al suo ritorno, mio padre mi abbracciò come niente fosse. Ne rimaci turbato. La risposta e il mio disperato desiderio di comprendere le emozioni umane, per controllarle, per anticiparle, si andava allontanando sempre più. Bella complicità al contrario, quando, qualche anno dopo, mi chiese in gran segreto un favore speciale. Distruggere una colossale ceramica di Capodimonte, regalata a mia madre da qualcuno. Raggiante per l'incarico, mi avvicinai a quella fioriera impossibile, e con il gomito la spinsi, piano piano, fino a farla cadere. Mesi dopo, chinandosi per terra, era ancora possibile trovare qua e là fiorellini turchesi superstiti all'eccidio. Dopo la morte di mio padre, pensai bene di regalare a mio figlio il suo rasoio elettrico, una specie di staffetta generazionale, per proseguire nella linea maschile della famiglia. Ma non avevo fatto i conti con il tempo, poiché quell'apparecchio, come se fosse stata una clessidra, aveva trattenuto i granelli dei giorni, e barba dopo barba si era andato lì a impendo di una polvere bianca. Così, quando mio figlio mi venne a domandare perché la macchinetta non funzionasse più, aprendola trovai il tesoro nascosto. Una cipria vivente, una reliquia, cenere e cenere di un rogo consumato. A proposito di un difficile rapporto triangolare, lungo angoscioso pomeriggio in cui volli condurre mio padre e mio figlio al carosello dei carabinieri in piazza di Siena. Villa Borghese a Roma nasconde un vasto spiazzo dove, una volta all'anno, si compie questa manifestazione vecchio stampo. Mio padre mi ci portava da bambino, per cui pensai di ripetere l'usanza con lui e mio figlio. Errore madornale. Uno già anziano, l'altro ancora piccolo. Cominciarono infatti a disputarsi la mia attenzione con una credine che mi lasciò di sasso. Silenziosi, simmetrici, nemici, perfettamente coetanei, e io la posto in palio. Eccolo il vero palio di piazza di Siena. Due volte padre, due volte figlio. Ritardi, folla, traffico, biglietti ormai introvabili. Si trattò di una scena penosissima. L'ostinazione di entrambi era evidente. Decisi a non cedere neanche di un millimetro dalle loro rispettive posizioni, e io diviso fra loro, lacerato, tirato per la manica di qua e di là. Mai più, mai più, mi dissi, e fui di parola. Insieme si adoravano, eppure la mia presenza bastava ad innescare un'immediata e implacabile forma di agonismo, quasi fossi un reagente chimico in mezzo a due sostanze sconosciute. Meglio lasciargli in pace tra di loro. Non per niente, tutt'oggi, mio figlio trascorre giorni interi disegnando. Mio padre amava la musica classica, ma fino a un certo punto. Uno dei grandi dolori che dovetti affrontare fu quando compresi di averlo superato, nei gusti, nelle competenze, nelle informazioni. È la cosa più bella che possa accadere a un genitore, a un maestro, certo, ed egli sapeva apprezzarla. Però, almeno all'inizio, scoprirmi superiore a lui in qualcosa me lo fece apparire fragilissimo, e soprattutto per la prima volta. Mi diede il senso della mia fragilità. Non c'era più nessuno a ripararmi. Anzi, adesso ero io che dovevo prendere cura di qualcuno. Accadde quando, il giorno del suo compleanno, decisi di regalargli un disco di Schoenberg. Lo vidi prima sorpreso, poi indifferente. Avevo toccato il punto in cui la sua cultura molto semplicemente si arrestava. Il mio Dio non prevedeva l'esistenza della dodecafonia. Dunque i suoi superpoteri non erano infiniti. Questo fu il vero scandalo che dovetti affrontare. Più tardi, diventato adulto, lo prendevo in giro per la sua mania di provare a rispondere a tutte le domande con una spiegazione. Non ammetteva mai di ignorare qualcosa. Per questo, forse, la scoperta di un limite mi parve tanto grave. E inoltre non sapeva pronunciare la parola Israele. Ridevamo sempre, ogni quel volta si avvicinava il momento di nominarla. E io facevo di tutto per spingere il discorso in quella direzione, così da vederlo scornato. Ma sotto sotto sorridente. Affrontare l'insormontabile ostacolo delle due consonanti contigue. Tutto questo per giungere a una scena tra le più commoventi che ricordi. Nell'estate del 1974, dopo un incidente automobilistico, venne ricoverato per due mesi in ospedale. Giacevo su Pino a immobile con un perno che mi attraversava la tibia. Dalle sue estremità partiva un cavo d'acciaio che, passando per una carrucola posta a un metro d'altezza, finiva in un sistema di bilanceri regolabili grazie a dischi di piombo. Un modellino di funivia, nel quale l'attrazione del femore consentiva la ricomposizione del bacino fratturato. Il perno nel ginocchio mi era stato conficcato durante un'anestesia epidurale, apertamente ispirata al prototipo della cicuta socratica. Il veleno che sale. Senti ancora le gambe? Non così al mio vicino, giunto dopo di me. Con raccapriccio seguì la selvaggia terapia inflittagli. Il medico cauto che gli si avvicina con un black decker in mano, nascosto da un giornale, un altro che gli domanda a che ore sono, lui, ignaro, si distrae, e quello infallibile gli trapassa da parte a parte la testa dell'osso. Toglie il trapano fumante, e solo allora il paziente, stupito, riceve il dolore, indifferita. Ricordo quel belletto, e cerco ancora di afferrarne il senso, ma continuò a sfuggirmi, per quanto non ripassi al rallentatore, gesto dopo gesto. Atroce passe des deux. Tascorrivo i giorni a letto, accanto al mio compagno perforato, un vedovo originario dell'assolata cioceria. Era ormai già passato vario tempo, ma mio padre niente. Io leggevo e leggevo, ascoltavo musiche. Arrivavano amici, ma lui no. Finché in un dopopranzo di fine giugno, me lo vidi comparire davanti al letto. Stavo ascoltando l'italiana di Mendelssohn. Si fermò serio, accigliato. Rimase in piedi a braccia concerte. Per qualche secondo ci guardammo con aria ostile. Che cosa mi voleva rimproverare? D'essere rimasto immobile a un incrocio, mentre l'auto di un folle mi piombava addosso. In genere, ai ragazzi in motocicletta si dice di andar piano. Io ero addirittura fermo. Che colpa avevo? Giusto mia nonna aveva fatto di peggio, quando anni prima, partita in piena salute per un pellegrinaggio a Lourdes, si era spaccata una gamba sulla scalinata. Quella specie di sfida, di duello, non durò molto, perché un attimo dopo mio padre mi abbracciò. Così, mentre Mendelssohn andava, lavorando di viole e di violini, mi sciolsi per la prima volta in un pianto potente, regressivo, salutare, profondo quasi quanto alla ferita. Al momento del suo funerale, intercettai sulle scale di casa l'addetto alla sepoltura, che si stava avviando al cimitero con una fotografia di mio padre scattata pochi giorni prima. Era per la lapide, ma l'immagine sconfortante rappresentava un vecchio in una vestaglia a colori, esausto, stremato. Mi impuntai, discutemmo in famiglia, e alla fine, cercando in fretta e furia, riuscii a scovarne un'altra in bianco e nero, dove appariva giovanissimo, un ventenne. Perciò, nella sua tomba, adesso sta l'immagine di un ragazzo compunto, sussiegoso, che va studiando con cura la sua posa, magari rifacendosi a qualche amato attore olivudiano, per prepararsi ai tempi che verranno. Qualche tempo fa, i miei nonni furono tolti dalla tomba. Credo che fosse aprile, perché ricordo il colore verde giovane, intenso dei prati. Una volta tirata su, la barra di mio nonno fu scoperchiata, e io per un istante lo vidi. Aveva un vestito scuro, poi il becchino tirò su i calzoni, e mi accorsi che dentro non c'era niente più che un po' di cenere. Ma sotto il vestito c'era l'erba. Non so se hai presente l'erba quando cresce sotto un sasso, oppure quella che, almeno quando ero piccolo io, si seminava all'inizio della quaresima in certi piattini, e aveva un colore bianco giallognolo. Ecco, per un istante vidi che l'erba aveva la forma di mio nonno. Sempre a proposito di nonni, se non conobbi il padre di mio padre, morto il mio stesso anno di nascita, se detestai sua madre, cosa di cui soffriva molto e inutilmente, devo dire che il resto del suo ramo familiare rimase immerso in una lunga eclisse. C'era un lontano parente, Rodolfo Celletti, considerato uno dei massimi esperti di canto lirico e di storia dell'opera, ma viveva a Milano e non lo conobbi mai. Piuttosto, su tutti gli altri, regnava incontrastata e incontrollabile la figura sovrana di Giacinta, la cugina di sangue. Questo inquietante doppio femminile era odiato oltre ogni dire da tutti i parenti per via della sua leggendaria maldicenza. Io la ricordo solo vagamente, immensa così mi pare, anch'essa marchiata a fuoco dalle stimmate di Christopher Wolken. Giacinto, fuggendo Giacinta, fuggiva in verità dalla remota Pofi, dalle sue usanze claniche, tribali, da un mondo contadino tramato di vendette, diffidenze, congiure. Giacinta, la gigante, era il tremendo sciamano da evitare e fu così che non ne seppi più nulla. Un piccolo fatto, nell'ultimo periodo della sua vita, mi è rimasto particolarmente impresso. Con quello slancio tragico che sempre scaturiva da ogni minimo contrattempo, mio padre mi telefonò sconvolto per dirmi che il letto matrimoniale era andato distrutto. Immaginai una catastrofe irreparabile, con i due anziani sposi travolti da un crollo in mane. Invece si era giusto spezzata a un asse. Uscì per strada, chiesi dove era un falegname e mi imbattei in un omino delizioso, competentissimo e appassionato del suo lavoro, quel tipo di persone grazie al quale scopri ogni tanto che non sei solo al mondo. Invece di sostituire il pezzo e lucrarci sopra, trovò un modo ingegnoso per ripararlo e in un attimo tutto fu sistemato. Un angelo custode, che Dio lo benedica, però a patto che stermini quegli altri, li sono. In un simile aneddoto, forse, a colpirmi, fu il racconto omerico, sul letto che Ulisse scavò fra le radici di un albero. Ma, oltre al senso mitico, agisce il sentimento del covo nuziale, segreto, del nucleo sessuale e inaccessibile, radiante, radioattivo. E mamma? Con la mamma fui cattivo, e prevedo che sarò sempre, perché troppe divergenze abbiamo su tutto. Carlo e Mediogatta. Ninna nanna, mi domandi perché non ti accarezzo, perché non cerco più di starti accanto. Ma devi capirlo. È la coda, il pungidione tuo, che mi spaventa. Perché ogni volta che mi accosto e sento il gelo del veleno piombarmi nelle ossa. Sei sempre tu, la lama che mi entra dentro la schiena mentre ci abbracciamo. È lei che bussa mentre sto parlandoti e dolcemente scende sulla nuca. Ti voglio bene, ma non a tutta quanta. Solo mezza creatura posso amare, quell'altra no. Perdonami, ma è troppo chiedere di baciare anche il rasoio. Ciò fu vero per oltre cinquant'anni di liti, ostinazioni e ostilità, ma oggi anche su lei è calata la notte della parola. Era sorda da tempo e infine Alzheimer, come un feroce boia dei tempi antichi. Le ha reciso di netto la lingua. Non parla più. Si illumina quando mi vede. Mi stringe la mano se gliela stringo e poi scuote la testa. Scuote la testa in una maniera che mi dilania il cuore. Perché questa clausura neurologica? Perché questa condanna a essere senza esserci? La sua, però, è un'altra storia. Il suo, un altro silenzio. Adesso poi non vuole più nemmeno aprire gli occhi. Si siede curva e intrecciata. Sembra uno scubidù. La vado ad accarezzare ogni settimana come fosse un talismano o forse un promemoria. Montaigne. Usanza dell'isola di Ceo. La morte più volontaria è la più bella. La vita dipende dalla volontà altrui. La morte della nostra. Ho appena scoperto che si chiama corona ipocratica. Il nome si riferisce a quella zona dei capelli che va dalle orecchie alla nuca, assumendo la forma di un ferro di cavallo. È tutto ciò che resta in genere verso i settant'anni a chi diventa calvo. Ma anche prima. Mio padre aveva sempre avuto una fronte spaziosa che, all'inizio, giocando col riporto, giungeva quantomeno a mascherare. Poi si errese e subì senza proteste la sua definitiva incoronazione ipocratica. Occhio, che il pelirossa ti ha sfilato lo scalpo. Ti senti ancora giovane, ma il tempo ha già colpito, e in alberi la testa scotennata di chi ha conosciuto il nemico, lasciandogli il trofeo in un'imboscata. Ecco però che un giorno, poco dopo la sua morte, l'ho detto già altre volte, gli specchi nei camerini dei negozi di abbigliamento andrebbero vietati per legge. Ebbene, proprio lì, preda incolpevole di un perverso sistema di riflessi, scoprì tutto d'un tratto di avere, anche io, la tonsura. Duce. In cima alla testa, in un punto solitamente invisibile ai miei occhi, si era pian piano spalancata la piazza. Mio padre adesso era un po' più vicino. Due cose non mi posso perdonare. La prima, più veniale, riguarda il giorno in cui lo presi in giro, come facevamo spesso fra noi, di fronte a un suo collega. Scese un gelo improvviso. Io dopo mi scusai, mortificato e confuso. Il tutto finì là, però avevo capito che mio padre non era abbastanza forte da sostenere, davanti ad altre persone, l'ironia di suo figlio. Doveva rimanere un gioco a due. L'altra storia è più triste e mi ha segnato a fondo. Durante le vacanze, capitati non so più come in un borghetto umbro, incontrammo il proprietario della zona per un caffè. Cortese, ricco, forse aristocratico, ma senza forzature, a un certo punto il gentiluomo di campagna mostra a mio padre un dépliant, dando per scontato la sua conoscenza dell'inglese. Lui lo accettò, ma noi sapevamo che in realtà ignorava la lingua, e lui sapeva che noi lo sapevamo. Risalimmo in macchina in silenzio senza fare parola dell'accaduto. Eppure io avevo visto il mio profeta mentire e vergognarsi fino a dover mentire. A casta, a ceto, a classi. Il gallo canta tre volte, per chi rinnega se stesso e la propria origine. Fu come sentirsi complice in un tradimento. Da allora le lingue straniere sono rimaste per me una ferita non rimarginabile, ossia la mia professione. Feci il mio primo viaggio aereo all'età di sei anni, destinazione Treviso. Che spedizione insensata. Partii con mio padre per visitare una fabbrica di caldaie. E io che c'entravo. Niente. Fatto sta che il biglietto era pagato e lui mi portò con sé. Mi fece tenerezza sin da allora. E la noia di tutte quelle spiegazioni che i tecnici ci inflissero davanti a centinaia di termostati. Poi ancora il pranzo, sempre spaesato, sempre accanto a lui. Infine ritornammo, così come eravamo partiti. Fu il battesimo dell'aria. Insomma, caldaie a Treviso. La noia, d'altra parte. La noia per così dire feriale. Il modo da distinguerla dal nero abisso dei giorni festivi. Fu il filo conduttore dei nostri rapporti pratici. Andavo a scuola con un pulmino maledetto. Il primo a essere raccolto sul fare dell'alba. Andavo ad atletica accompagnato del figlio del nostro portiere. Lo ricordo adesso per la prima volta dopo almeno quarant'anni. Andavo a nuoto accompagnato dal sarto di famiglia. Perché mai un sarto autista? Eppure al ritorno appariva sempre lui, mio padre, che tuttavia prima di rientrare a casa doveva passare un attimo da studio. E che significava per me ore di attesa. Quanto mi hai fatto aspettare! All'inizio a salvarmi fu la filodiffusione, che trasmetteva interminabili radiodrammi, fra cui la lettura integrale del deserto dei Tartari. Lo studio di mio padre dava su un incantevole, arioso cortile color ocra, pieno di palme, d'epoca fascista. Così ascoltavo il tenente Drogo, e vedevo il deserto, io stesso, nella noia, in attesa dei Tartari che non venivano, non venivano mai. Per mia fortuna c'era una moquette verde prato, su cui mi sdraiavo ascoltando le minime avventure della fortezza Bastiani. Interi pomeriggi passavano così, mentre lui, nella stanza accanto, lavorava, del tutto ignaro della mia presenza. Eravamo entrambi soli, a ben vedere, ma lui sprofondato nel disegno, io invece nel nulla. Finita la puntata, mi restava il cortile da guardare. Fu un duro allenamento, e soltanto alla fine giunsi a capire che la salvezza risiedeva nei libri. Una volta trovata la chiave, il mostro dell'attesa venne decapitato, e al suo posto fiorì la lettura. Scena di apicale dolcezza. Quanti anni ho, dove siamo? Forse in un giardino durante le vacanze. Lui è arrivato di nascosto. Mi ha fatto una sorpresa, e adesso è là, nella luce, dall'altra parte del prato. Che sorride, si accoccola e mi spalanca le braccia, invitandomi alla stretta. Io corro, corro verso di lui, ebbero di gioia, e sento ancora la sua voce che mi chiama. A butto de papi! Papi è forma toscana per papà. Dio maledica, chi pensa alla y finale, o peggio ancora, all'utilizzatore finale per antonomasia. Butto è versione infantile, in funzione imitativa, del pronome brutto, qui usato ovviamente in forma antifrastica per bello. Molto si è scritto sull'allocutivo. Per Paolo d'Achille, ad esempio, si tratterebbe di una particella che Roma sostituisce generalmente, tanto sul piano delle realizzazioni dialettali quanto su quello dell'italiano regionale, la forma toscana e letteraria, o che anzi, accanto al più studiato A.O., costituisce una forte marca locale. Naturalmente, l'enunciato aperto da A ha carattere iussivo o interrogativo. Il vocativo può, però, anche rimanere assoluto, con mera funzione di richiamo, anche per manifestare insofferenza, fastidio, disaccordo. Il valore semantico-pragmatico di A sembra, in ogni caso, chiaramente quello di rafforzare l'allocuzione, permettendo l'immediata riconoscibilità del vocativo. Dal punto di vista fonetico, infine, bisogna osservare che la forma non provoca mai raddoppiamento sintattico, tutte cose sacrosante che mio padre ovviamente ignorava, limitandosi a tradurle in un lunghissimo, interminabile abbraccio. Immenso, poi, l'amore che nutri per il fratello, suo esatto contrario. Radiologo, medico dei poveri, spaccone e gaudente, vero giocatore, senza nulla della sua feroce cupezza. Feste e allegria, amici, gite, cene. Giacinto aveva in lui il rovescio del mondo. Spensierato, guascone fino alla tragedia. Subì l'amputazione di alcune dita, mentre il cancro lo divorava dall'interno. Entrò nella morte cantando, così come aveva sempre saputo vivere. Quando venne sepolto, su Santino, accanto alla sua foto, c'era una poesia che aveva scritto durante la malattia. Non mi colpì, in modo particolare, tranne che per il fatto d'essere rivolta direttamente a Gesù. Così, molti anni dopo, le ho risposto con un'altra, intitolata «Sull'aria della chanson di Jules Supervielle» e dedicata appunto ad Antonio Magrelli. «Signore, spremi bene, gira e pressa, riducimi in fibretta, ganga, lieve, scorza e corteccia, bugia soffiata in aria. Fammi bugia di me, toglimi liquido e verità, toglimi via di mezzo, ma versa tutto il resto. Versa, versa». Alla fine ho ceduto, lo sapevo benissimo. Conoscevo il motivo per cui avevamo smesso di trascorrere le vacanze in montagna. Era per via del suo progetto edilizio. Aveva richiesto tempo, ma alla fine si era concretizzato. Non che la cosa ci avesse vietato di tornare. Di fatto, però, una volta concluso, non ci mettemmo più piede. Anzi, non lo vedemmo nemmeno cominciare. Da parte mia, avevo sienò quattordici anni e non volevo certo indagare a fondo. Del resto, avevo iniziato i miei viaggi estivi e quella villeggiatura stanziale, regressiva, non mi interessava più. La settimana scorsa, tuttavia, sono andato su Google Maps. L'ho fatto per ritrovare la cittadina, le frazioni, le strade, la casa della mia infanzia. C'era tutto. E davanti alla nostra vecchia abitazione, visibilissime, ecco sette villette a schiera, su due file, molto ben distribuite e inconfondibili, come la firma di mio padre. Così quel prato, quel grande prato su cui giocammo per anni, divenne un residence, è diventato un residence, in altri termini. La speculazione paterna ebbe luogo nel mio recinto più sacro. Qualcosa come la spianata del tempio. Google. Google delle mie brave. Ero dentro uno schermo e scopro quello che si è fatto quarant'anni fa. Quello che non ho mai avuto il coraggio di visitare dal vero, di persona. Guardo attraverso lo spazio, certo. Ma così facendo, strappo il velo del tempo e insieme il velo del mio amore filiale. Niente da dire. Faceva il suo lavoro di ingegnere, lo faceva bene. E io ne ho vissuto. E ho vissuto delle sue costruzioni. Eppure resta una sovrapposizione che non mi ha mai convinto. Una appropriazione, un'usurpazione, o meglio ancora, un'espropriazione. Sono stato sfrattato dall'infanzia per potermi pagare l'adolescenza. Google. Google delle mie brave. Qual è l'affare migliore del reame? Non saprò mai quanto denaro quel terreno sia fruttato a mio padre, ossia noi stessi. Ma temo che il suo prezzo per me sia stato più alto. Il suo ultimo compleanno. Pianze, ripetendo. Guarda, guarda come mi sono ridotto. Perché il linguaggio era ormai a brandelli. In compenso, tre anni prima, lo aveva festeggiato davanti a amici e parenti con un discorso che si concludeva così. Io sono pieno di odio per il mondo. Ecco, da cosa sto scappando. Ormai sono contagiato, lo so bene. Ma non voglio ripetere il suo errore. E soprattutto non voglio trasmetterlo ai miei figli. Anche perché capisco che quell'ira era soltanto una forma di sofferenza, una cancrena che finì per mangiargli il cuore. La maturità è tutto. E questo tutto fu ciò che gli mancò sempre. Ne venne fuori un vecchio acerbo, esacerbato, vulnerabile, uscito da un secolo che pure aveva inventato la psicanalisi e gli psicofarmaci. Lui se ne tenne lontano per scetticismo, diffidenza, paura. Se in un ultimo abbracciò la religione, fu come un succedaneo. Povero figlio di maresciallo, mandato in guerra a vent'anni, senza una guida, senza neanche sapere cos'è una guida. Avrai voluto essere suo padre. Basti sentire ad esempio questa storia. Mi sono addormentato mentre guidavo e sono andato a sbattere contro il guardrail. Ce lo disse un bel giorno, dopo pranzo, come se niente fosse. Ma la macchina aveva una fiancata completamente abrasa. Aveva settantotto anni e smise di guidare. Ho immaginato a lungo la scena, una scena da vascello fantasma, lui muto e inconsapevole, sognante, nell'abitacolo scagliato sulla strada, con l'automobile che rimbalza da un lato all'altro. La bella addormentata nel suo scrigno fatato, di cristallo, come una principessa, o forse un cagnolino. Laica, dolce creatura, persa dentro gli spazi siderali. Le sue macchine, tante all'inizio e anche belle, le primissime Morris e le Lancia, finché si arrenò su una sciagurata Peugeot Diesel. Il diesel, a quei tempi, era all'avanguardia, ma lui purtroppo rappresentava la retroguardia. Perché mai una persona del genere, che usava l'auto al solo e unico scopo di litigare, fece una scelta così azzardata per la sua epoca? Non so. D'altronde, nemico di tutti i meccanici del quartiere, poi a mano a mano dell'intera città, sarà finito preda del solito furfante. Ancora lo ricordo che sistema nel portabagagli lo sportello del frigorifero, per farlo riverniciare da un carrozziere che aveva un'officina lontanissima in aperta campagna. Fatto sta che la macchina andò sempre male e peggiorò via via che invecchiava. Me la presentò una volta per andare in montagna, e un ennesimo guasto ci costrinse a tornare in autostrada, dalle Dolomiti a 40 chilometri orari, sfiorando le 24 ore di viaggio. Decise allora di rifare il motore, un disastro. Le emozioni però non mancavano. La tenuta di strada, ad esempio, era irrisoria. Ricordo ancora un doppio testa-coda, durante un'acquazione a mezzanotte proprio davanti al Quirinale, con due corrazzieri allibiti. In ultimo, la macchina si rifiutò del tutto di partire, finché qualcuno suggerì a mio padre la formula masica. Etere! Etere nell'aspiratore! Fu in questo modo che iniziai a corteggiare la mia futura moglie. Andavo a prenderla a casa sua, spegnevo il motore e aspettavo. Appena mi accorgevo che scendeva, aprivo il cofano e con la bomboletta spruzzavo un po' della sostanza fatata dentro una specie di imbuto. Rientravo nell'abitacolo e in gran fretta stabilivo il contatto. Che spettacolo! Che pirotecnia! Una spaventosa detonazione salutava la comparsa dell'amata. La mina aveva brillato e l'auto, sobbalzando, si avviava. Indimenticabile poi, un viaggio attraverso l'Austria, seguiti e segnalati da una vertiginosa colonna di fumo emessa da un tubo di scappamento semiotturato. Ambravamo i remagi ma con la stella cometa di dietro. Almeno la fine fu allegra. Partimmo per il mare, quattro amici in autostrada, durante un'incantevole sera d'estate. Poi, d'improvviso, un tonfo. I due del sedile posteriore fecero in tempo avvoltarsi, per vedere, enorme nero lucente al centro della careggiata, l'intero motore staccatosi di netto, espulso come lo stadio di un missile al decollo. Libera da quel peso senza senso, la Peugeot Diesel filava via leggera. Andò avanti un bel po', col suo dolcissimo abbrivio. Dopo accostammo e rientrammo in autostop. Fu venduta come semplice rottame a una ditta di autodemolizioni sita in città vecchia. Almeno a Natale si riesce a parcheggiare. Sono tre giorni che ci sto pensando, perché il programma è alquanto complicato. Si tratta di portare mio padre a casa, fargli salire lentamente l'unico piano di scale, passare un'orità insieme e poi proseguire dai consuoceri per il pranzo rituale. È tanto tempo che non viene a trovarmi. Si muove sempre peggio, per cui ho dovuto trovare un posto macchina il più vicino possibile. E adesso siamo qui, seduti in auto, parcheggiati proprio di fronte al mio portone. Si è appena addormentato, ma finalmente ho capito che non riuscirò a portarlo a casa mia. Mai più. Mentre lo guardo, cercando di non farmi sorprendere, non posso trattenermi dal pensare a due nuovi particolari del suo aspetto. In primo luogo, gli sono cresciuti gli occhiali. A parte il fatto che prima non li portava fissi, devo ammettere che, comunque fosse, la loro montatura aveva delle dimensioni normali. Ora, al contrario, è diventata enorme e nera. Ma dove li hai trovati, mi verrebbe da dirgli? E dove l'hai trovato, quel cappello? Un cappello. Mio padre. E per di più in automobile. Lui, che per tutta la vita aveva preso in giro chi guidava indossando il coperchio. Così, spento il motore, avverto accanto a me la presenza di un vecchio signore muto, con borsalino e lenti gigantesche. Passano dieci minuti desolati. Continuo a riposare. Poi una vocetta squillante vicino al finestrino mi fa segno di aprire. È mia figlia undicenne, d'oro Zecchino, che mi porta un bicchiere di caffè già zuccherato. Non vedendomi arrivare, immaginando il protarsi dell'attesa, hanno pensato che mi avrebbe fatto piacere. Mi fa ciao con la mano e se ne va, lasciandomi da solo singhiozzare. Ma non voglio salutarlo in questo modo. C'è un altro giacinto, che vedo sulla soglia, sorridente e contro luce, mentre lui mi dischiude la porta di qualche chiesa sconosciuta. Entra, mi dice, entra. Mi insegna, quando una porta è chiusa, non ti fermare mai. Vai dritto e aprila. Lascia agli altri, se vogliono, il peso di vietarti l'ingresso. Non arrestarti prima che te lo impongano. Quanti portieri, quanti sagrestani ho superato seguendo il suo consiglio. Quanti cortili, quanti chiostri ho visto, che non avrei altrimenti visto mai. È così che lo voglio salutare, con questo nodo in gola che mi viene, nel ricordarlo, alto, radioso, allegro, che mi fa segno di venire avanti, di non aver paura, di seguirlo.